allora buonasera a tutti quanti bentornati su parabellum in questa insolita edizione era un pochino mi dedicava a questo genere di cose ma l'evento di per sé richiedeva un po di lavoro e mi servivano quattro mani anzi forse anche sei voglio ringraziare anche persone del 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 gruppo della forgia di van grieco perché anche lì ciao formaggia ci sono persone che si sono dedicate parzialmente a debancare soprattutto le questioni economiche quindi ringrazio lui ringrazio bol don't lie emiliano che si era occupato tantissimo di questioni del donbass di separatismo debanchi di video di orsini sulla questione ampia diciamo ed altre questioni e voglio rispondere anche ad alcuni commenti che ho letto subito del tipo a voi dopo due settimane rispondete sì perché facile aprire la bocca e dire una cavolata poi io per dimostrarti che quella è una cavolata purtroppo ho bisogno di 6 7 pagine di fonti perché se ti devo dimostrare che la guerra non l'hanno cominciata gli ucraini non posso limitarmi a dire no non è vero se non è la mia opinione contro la tua allora andiamo al bar e ognuno ha le sue opinioni buonanotte io te lo devo dimostrare e una semplice frase come quella per essere dimostrata ha bisogno di tantissime fonti perché bisogna farvi vedere decine decine di evidenze del fatto che non sia così evidenze che poi voi troverete sotto sono 6 7 pagine di fonti l'abbiamo divise per sezioni e abbiamo scremato e abbiamo scremato ce ne potremmo raccontare per 10 ore veramente potremmo mettere 15 pagine di fonti abbiamo scremato molto e comunque sono 200 slide e 6 7 pagine di fonti e la maggior parte di questo racconto paradossalmente ci viene raccontato dai russi perché molti di loro hanno detto proprio di propria voce e siccome non basta che lo dice uno la cosa interessante è che ci sono anche più russi che confermano quello che dicono gli altri in maniera incrociata quindi è molto interessante vedere questa cosa qui è una questione anche di rispetto per per chi ci sta ad ascoltare io e mirco che passiamo moltissimo tempo a occuparci di queste cose potremmo affrontare un dibattito di quel tipo anche senza prepararci settimane ma per spiegare per per creare una narrazione per voi per per fare ci vuole tempo è anche una questione di rispetto per chi sta qui ad ascoltarci se io non posso fare un video dove dico no questa è una cavolata vi dico perché e ve lo dico io e non vi do le fonti non vi do il modo di andare a vedere da dove traggo le mie conclusioni del perché sostengo x tesi ok quindi cominciamo perché la storia è lunga e forse sarà uno dei video più prolissi e più dettagliati su questa questione che sia mai stato fatto in in italia non commenterò la conduzione di shine non mi interessa non ho mai ben capito quale sia il suo obiettivo non è un dibattito non è un'intervista quindi non so esattamente cosa vuole ottenere visto che non puoi confutare quello che dice l'ospite non ci dibatti non è una vera intervista perché quello dice quello che li pare ovviamente shine sapeva che molte delle cose dette da lui non erano vere ma non hai in modo di argomentare perché parlando questa è una delle tecniche che tu hai debancato anche all'interno del tuo canale cioè quella dell'idrante io ti sparo 5 mila argomenti che richiederebbero il quintuplo del tempo per essere spiegati e letteralmente mi sommergi di cose che io per provarle o c'è uno schermo lì e te le faccio vedere mano a mano ce l'abbiamo qui ma lì è difficile perché se io dico la mia e so anche se so che la mia è veritiera perché ho tutte le fonti lui dice la sua purtroppo chi è lì ospiti in un teatro dirà su base ideologica crederà all'uno o all'altro e questo è un genere di dibattito che a me non piace fare a me piace andarci con la carta carta canta e quindi cominciamo perché sarà un viaggio molto profondo e vedrete quante quant'è lunga la tanna del bianconidio sì quello che abbiamo fatto fondamentalmente è prendere una buona parte delle cose che ha affermato travaglio durante l'incontro il dialogo e andare a verificare come come si come si come si tutte perché ci vorrebbero quattro ore per farle tutte e quindi abbiamo dovuto selezionare anche perché come detto a noi piace motivare e quindi sono 118 slide e sei pagine di fonti e quindi abbiamo dovuto comunque fare una scrematura scremare per arrivare ai punti qualcuno chiede le fonti di chi guardate che la maggior parte di queste fonti sono i russi stessi nelle loro televisioni loro interviste che le raccontano quindi sono fonti russe tecnicamente si può smontare tutto questo con le fonti russe senza neanche dover scomodare le fonti occidentali o l'osce o l'onu e questa è la cosa drammatica che se uno veramente vuole capire di questa cosa bastano le dichiarazioni di russe e tutto quello che hanno già prodotto spontaneamente senza quercizione e cominciamo soft con cominciamo soft perché cominciamo con travaglio che parla della della via della seta io non voglio che noi siamo vassali degli americani perché perché non ci conviene più basta però ci conviene una super via della seta però ci conviene una super via della seta ma tutte le vie possibili per aumentare i nostri commerci e le nostre esportazioni e voglia ma non voglio i cinema ma la via della seta non è importante ce l'hanno tutti i paesi europei sapete quale è è la super auxilio che si è ritirato ma non ce l'ha nessun paese how to passagne ma non ce l'ha cosa non è la ce l'hanno tutti allora qui travaglio ripete tre volte ce l'hanno tutti la via della seta e shai giustamente dice non è vero e travaglio poi continua a nastro ecco, verifichiamo ce l'hanno tutti o no questa stramaledetta Via della Seta perché Travaglio, che parlato io seguo, io lo dico, io sono uno ammelatore di Travaglio quando ce l'aveva con Berlusconi quando si occupava di cronaca giudiziaria ed era estremamente puntiglioso quindi è curioso che quando parla di queste questioni questo piglio estremamente preciso scompare completamente sì, Travaglio poi inserisce questa cosa all'interno di un discorso più ampio in cui fondamentalmente dice che ci siamo rovinati limitando il nostro commercio con la Russia tramite le sanzioni e che ci siamo castrati tra virgolette andando a cancellare l'accordo sulla Via della Seta i dati economici ci dicono che da un lato la Russia è sempre stato un attore economico marginale per l'export italiano nel 2020 valeva 7 miliardi nel 2022 scende a 5,8 per arrivare alla fine dell'ottobre 2023 a circa 4 miliardi quindi perdendo quasi la metà per le sanzioni però andiamo anche a vedere che il peso della Russia sull'export italiano era nel 2020 l'1,6% nel 2021 l'1,5% quindi ogni 100 miliardi esportati dall'Italia uno e mezzo erano di export per la Russia nel 2020 era il tredicesimo partner commerciale per l'export italiano nel 2021 addirittura era sceso al quattordicesimo posto quindi un attore fondamentalmente pesa quanto la Romania nell'export italiano qualcosa più della Repubblica Cera qualcosa meno della Turchia dall'altra parte c'è il tema della Cina la Cina ha avuto una crescita praticamente continua negli ultimi anni per quanto riguarda l'export italiano per dare due coordinate temporali l'Italia firma il famoso memorandum sulla via della seta il 24 marzo 2019 ne esce il 7 dicembre 2023 la sua tesi era di non lo so smettere di commerciare con gli americani e fare di più con i cinesi poi vedremo anche la bilancia economica di import-export completamente sbilanciata fra noi e la Cina sul quadro era 15 miliardi contro 45 ed è paradossale perché nell'intervista di Putin Putin dice noi abbiamo una bilancia commerciale con la Cina paritaria perché chiunque fa questo genere di accordi cerca di fare una bilancia paritaria se no va a favore più dell'altro che non di te stesso però quello che interessa a noi in questa storia è il suo annuncio di tutti hanno questa famosa via della seta lo ripete tre volte fondamentalmente noi non è che vogliamo negare il fatto che ci sia un interesse da parte dell'Italia a commerciare con la Cina ci mancherebbe c'è ovviamente un interesse da parte dell'Italia a commerciare con la Cina non c'è però nei numeri il peso dell'accordo sulla via della seta come vediamo dal 2007 più o meno l'export italiano in Cina cresce costantemente nel 2019 chiaramente c'è un'interruzione per quanto riguarda il 2020 per il covid ma comunque poi ricomincia a crescere esattamente come cresceva prima c'è un picco nel in un trimestre solo nel 2023 che va citato perché se no poi qualcuno ci dice ma nel 2023 in realtà per un trimestre del 2023 c'è un picco che poi finisce perché c'era un farmaco che viene importato in massa dalla Cina perché è un farmaco che secondo i cinesi funziona contro il covid ma è una cosa che dura proprio tre mesi c'è un picco e poi finisce però non c'è diciamo nessun effetto misurabile sull'export italiano per quanto riguarda l'accordo della via della seta e non c'è neanche in realtà un danno misurabile dell'export italiano totale per quello che riguarda il discorso delle sanzioni come vediamo nel 2022 l'export italiano cresce rispetto al 2021 abbiamo ovviamente i dati solo fino a novembre del 2023 scusa Mirko ringrazio Riccardo Baroni che hai messo qui perché lui è stato il mio primo abbonato parentesi e c'è una crescita in realtà come vediamo utilizzando i dati dei primi 11 mesi anche 23 su 22 quindi in realtà non c'è un disastro dell'export dovuto alle sanzioni o alla perdita dell'accordo sulla via della seta quello che però invece possiamo osservare è misurabile è il fatto che da quando l'Italia ha firmato l'accordo sulla via della seta quelle sono aumentate moltissimo sono le importazioni della Cina quindi se dovessimo dire c'era un grosso vantaggio nell'export italiano la via della seta non possiamo dirlo perché i dati sono fondamentalmente di una crescita costante a parte il 2020 che continua da 15 anni invece dal 2019 c'è un'impennata dell'import quindi se dovessimo dire questo accordo che cosa ci stava portando era un accordo che stava favorendo più la Cina che noi ci stava portando è una bilancia commerciale molto sfavorevole verso la Cina e come diceva Mirko Putin nell'intervista fa notare che per lui la Cina è un partner commerciale molto favorevole anche perché ha una bilancia veramente esportando molte materie prime e poi è l'unico modo per avere praticamente se non sei gli Stati Uniti lui dice che rifette la via della seta ce l'hanno tutti i paesi europei ce l'hanno tutti ce l'hanno tutti ce l'hanno tutti sì ce l'hanno tutti tranne la Spagna la Francia la Svizzera la Germania il Belgio l'Ollanda la Danimarca la Norvegia la Svezia la Finlandia il Regno Unito l'Irlanda e l'Austria noi andiamo a vedere la mappa dei paesi diciamo continenti Africa Asia Oceania Europa praticamente l'Italia era l'unico paese dell'Europa occidentale avvicinati un po' il microfono perché ogni tanto ad aver firmato questo questo accordo ora non è che sia una bugia gravissima però è una cosa che si può verificare molto facilmente e andare a dirla tre volte così è una cosa che fa un po' fa un po' effetto diciamo che tranne praticamente tutte le economie maggioritarie in Europa lui dice ce l'hanno tutti tranne Spagna Francia Svizzera Germania Belgio Olanda Danimarca Norvegia Svezia Finlandia Gran Bretagna Irlanda e Austria esatto alla faccia del tutti tra l'altro non è neanche chiarissimo se la Russia abbia firmato l'accordo sulla via della seta che a questo punto è il principale alleato della Cina quindi insomma è una cosa un po' curiosa perché è una cosa molto facilmente verificabile ma andiamo oltre andiamo oltre perché entriamo un po' nel vivo cioè entriamo su quello che è poi diciamo l'argomento su cui ho speso più tempo di ricerca è il motivo per cui ci siamo conosciuti e Mirko ovvero iniziamo a parlare insomma dell'Ucraina e l'Ucraina ma in Ucraina c'è otto anni di guerra civile dove l'aggressore era il governo di chi era che era credibile che il russofo era il più base e qui Travaglio dice due cose dice che c'è stata una guerra civile e che c'erano degli aggrediti russofoni e degli aggressori a questo punto ucrainofoni quindi ucraini ucrainofoni Travaglio aveva già detto questa cosa molte volte tra cui l'aveva detta al ministro degli esteri Kuleba durante un'intervista otto e mezzo il ministro degli esteri ucraino Kuleba gli aveva fatto notare che non c'è modo il volume di queste clip perché si sentono marino è a manetta è a manetta e quello che quello che dice Travaglio è fondamentalmente che c'è stata una guerra civile ora dal punto di vista 8 anni di guerra civile dove l'aggressore era il governo di Kier e ti è credibile che tu soffri tutto in base ok quarta dimensione ci dice che è alto non so se intende Mirko è alto nel senso che Mirko è proprio uno alto che il volume è alto allora il tema è questo dal punto di vista storico è insostenibile quella nel 2014 sia stata una guerra civile quella del 2014 è stata la prima invasione dell'Ucraina come comincia questa cosa comincia con dei volontari e sono informazioni che si possono trovare su internet per esempio già al 24 di febbraio del 2014 quindi ancora prima dell'annessione della Crimea nell'imminenza della caduta del governo Hazarov e della presidenza di Yanukovic quello che succede è che dei corpi intermedi in Russia iniziano a reclutare dei volontari per spedirli in Ucraina a combattere ed è una cosa che si ripeto si trovano ancora le tracce a 10 anni di distanza di questa di questa cosa corpi intermedi come l'Eurasian Union of Youth ovvero l'Unione Giovannile Eurasiatica l'organizzazione di Dugin e diciamo associazioni ultranazionaliste di questo tipo tra i primi ci sarà anche l'armata imperiale russa il più grosso gruppo di ultradestra della Russia di Putin e insomma sono molto espliciti nei loro proclami e nel loro e nel loro nel loro reclutamento quindi sarai un turista perché va a fare un visto turistico presentati qui ti manderemo a Kharkiv da Belgorod e queste cose si trovano già quindi siamo al 24 febbraio più o meno ultima settimana di febbraio del 2014 quello che succede è molto ben rappresentato per esempio a Kharkiv a Kharkiv c'è una situazione in cui ci sono dei manifestanti pro-Maidan che sono vicini al governo che nel frattempo si è insediato a Kiev un governo di unità nazionale che hanno preso il controllo del palazzo del governo regionale c'è una manifestazione di filorussi nella piazza a un certo punto quello che succede è che arrivano un gruppo di alcune centinaia di manifestanti molto organizzati molto motivati molto compatti che li linciano questo è quello che succede e quello che sentiamo dire quello che vediamo questo è un servizio della televisione mi scuso per la qualità è un servizio della televisione ucraina di quei giorni che anche questo si trova ancora in in rete quello che succede è che i manifestanti che vengono pestati dicono queste persone non erano di Kharkiv era gente che veniva da Belgorod una fila di pullman arriva da Belgorod quel giorno e viene anche mostrata in questo filmato di un telegiornale ucraino quindi un gruppo di persone che viene da Belgorod per scatenare fondamentalmente la piazza per scatenare la violenza ed è molto curioso il fatto che la giornalista va a chiedere conferma di questo e lo vediamo più avanti nel filmato va a chiederlo al capo del campo filorusso che si chiama nome di battaglia Topaz il quale in maniera devo dire molto trasparente e molto e molto sincera ha domanda diretta ci hanno detto che c'è della gente che arriva da Belgorod lui dice sì sono venuti a darci una mano sono venuti fratellanza slava ci sono russi non sto criticando certo ci sono sono qui per supportarci e questo è diciamo quello che accade in molti posti in quei giorni in Ucraina per esempio quel giorno lì noi sappiamo che la persona che si arrampica in cima al tetto del palazzo del governo autorato di Kharkiv e toglie la bandiera ucraina e immette quella russa non è un ucraino è un russo di Mosca che è lì apposta per questo motivo tra l'altro è una persona non sembra uno di una onlus così è una persona che sul proprio profilo di contatto pubblica foto di questo tipo tra l'altro nel frattempo questo è diventato famoso è un youtuber piuttosto noto cioè volevo dire una cosa a parte che è un youtuber eccetera questo per far capire perché poi questa faccenda può essere espansa all'infinito quei faccino rossi che sono stati portati con gli autobus hanno dietro dei finanziatori e sono tutti oligarchi russi questo youtuber russo e ricordatevi tutta questa storia a solo russi cioè non ce n'è uno del Donbass tra gli organizzatori tra gli oligarchi tra chi prenderà le cariche nel Donbass e ci arriveremo e siccome il travaglio poi è fissato con la questione dell'estrema destra in Ucraina noi facciamo vedere che tutti questi che hanno organizzato questa cosa sono di estrema destra ma lui non ne parla mai e per estrema destra lo dico tra virgolette lo vedete l'uniforme per chi non capisce l'uniforme quella è un uniforme se ricordo bene dell'esercito tedesco della Wehrmacht giusto per capirsi e mano a mano che scopriremo questa storia scoprirete che tutti i personaggi che ci sono dietro intanto hanno agito probabilmente alle spalle dello stesso Putin almeno fino a un certo periodo è tutto un movimento di personaggi estremamente strani secondo che hanno agito molto per testa loro con finanziatori loro e che di gente del Donbass che hanno preso parte a queste cose ce n'è veramente pochissima e vedremo come questi praticamente si instaurano con la forza e abbiamo tutte le prove per far vedere anche perché queste le raccontano loro queste cose e ognuno racconta sopra l'altro confermando quello che ha detto quello di prima e ci sono tutte le prove per riuscire a ricostruire questa storia qui che è anche interessante perché sembra alla fine che Putin sia stato quasi portato dai suoi estremisti a occuparsi di questa situazione e che molte scelte molte azioni soprattutto quelle di Gyrkin cioè di Strelkov sono addirittura partite direttamente da lui con i suoi finanziatori in maniera diretta nemmeno passando dal grande capo che poi viene spesso citato nelle intercettazioni audio presentaci questi signori questo qui noi abbiamo detto che era russo la persona che toglie la bandiera dall'Ucraina dal palazzo del governatore di Kharkiv è russo anche la persona che il 5 marzo quindi due o tre giorni dopo toglie la bandiera ucraina dal palazzo del governatore di Donetsk ed è una persona che poi diventerà abbastanza nota il Rostislav Zuravlev che è morto tra l'altro in Ucraina al fronte pochi mesi fa perché si era riciclato come reporter di guerra in realtà è uno che ha combattuto per molti anni dalla parte dei separatisti è quello che si definisce un nazbol un nazional bolshevico vicino al mondo di Limonov un bro di cultura politico molto russo che nel nostro aspetto politico definiremmo di estrema destra comunque anche in questo caso trattasi di un russo che fa il gesto diciamo un russo che non aveva mai messo piede nessuno di questi russi vive in Donbass cioè russo russo non russo di Donetsk di Seferov no Zuravlev era di Ekaterinienburg quello che abbiamo visto prima era di Mosca ed è gente che non aveva mai messo piede in Ucraina prima di questi fatti come è russo di San Pietroburgo Anton Raevsky che è questa persona qui che faceva parte della Odessa Drusina che era questo gruppo di non so come definirli hooligan che agiscono molto a Odessa nella primavera anche in prossimità della tragedia del massacro del 2 maggio e nel suo profilo live journal andava molto live journal in Russia in quel periodo ci dice molto chiaramente che era in collegamento in contatto diretto questo gruppo con Sergei Aksenov che era il governatore imposto dalla Russia alla Crimea dopo l'occupazione quindi quello che diceva Mirko prima ovvero corpi intermedi del regime russo che agiscono direttamente guidando tra virgolette o comunque collaborando con degli estremisti inviati sulle diverse piazze che partecipano a questa fase che è la fase un po' diciamo degli scontri di piazza qui non siamo ancora in una fase di guerra ci arriveremo poi vedremo Anton Raevski è una persona abbastanza in vista all'interno del movimento imperiale che è l'organizzazione che abbiamo visto anche prima che è il più grosso gruppo di estremissima destra russo basato a San Pietroburgo un gruppo molto importante nella storia del Donbass perché è un gruppo che già nella primavera nel 2014 avrà inviato centinaia di paramilitari di volontari in Donbass come vedremo più avanti contemporaneamente per esempio un altro personaggio abbastanza noto una persona diciamo non al vertice ma comunque in vista all'interno del movimento di Dugin quindi l'unione euroasiatica Oleg Bakhtiarov viene arrestato a Kiev con l'accusa di aver radunato 200 persone per organizzare pagandoli per organizzare una una sommossa e attaccare il Parlamento ora ovviamente questo è Commerzant questa è l'accusa noi non sappiamo se l'accusa sia reale non possiamo saperlo però sappiamo che Oleg Bakhtiarov era a Kiev il 30 marzo del 2014 e Oleg Bakhtiarov è un ultra razionalista russo di un gruppo che stava rilutando volontari per andare in Russia per andare in Ucraina a combattere e quindi magari l'accusa non possiamo provarla ma comunque il tutto fa parte di un quadro molto chiaro e molto coerente e soprattutto interamente basato su quello che dicono queste persone questa fase degli scontri di piazza non raggiunge gli obiettivi sperati nel senso che questa è la manifestazione filorussa e si svolge a Donetsk il 9 di marzo del 2014 quindi Donetsk è una città di più di un milione di abitanti in realtà in questo periodo ci sono molte manifestazioni nell'est dell'Ucraina sia pro che contro ma non diventano mai manifestazioni di massa come fu per esempio a Romaidan dove l'8 febbraio del 2014 a un certo punto c'erano in piazza 800.000 persone un evento rarissimo nel mondo postsovietico farmi spiegare bene perché questo è un momento chiave nel senso ci sono ovviamente russofili russofoni che non sono contenti di quello che sta succedendo a Kiev fanno qualche manifestazione non raggiungono mai più di qualche migliaio di persone sono manifestazioni pacifiche non arrivano mai agli scontri e poi a un certo punto tutto questo scema scompare e c'è lo stesso Gierkin che racconta queste cose lamentandosi del fatto che non sono riusciti ad alimentare e questo porterà un escalation che va fuori diciamo dal mood o dal pensiero degli stessi abitanti di Donetsk e Lugansk e tutto viene preso in mano praticamente dai russi e mano a mano vi racconteremo questa storia è un punto chiave perché anche loro si lamentano che qui o le cose le facciamo noi o creiamo noi il casino oppure qualche migliaio di manifestanti non hanno portato a nulla diciamo che non è che la situazione sia tranquilla ci sono pestaggi ci sono dei piccoli scontri però questa cosa non sta decollando in quei giorni Pavel Gubareff è il capo dei separatisti a Donetsk viene arrestato perché comunque c'è ancora un controllo da parte dell'autorità la cosa non sta effettivamente dilagando ma questo ripeto è una questione anche culturale cioè è molto raro che nello spazio post-sovietico si creino movimenti di piazza di massa è successo praticamente solo due volte è successo in Ucraina è successo una volta in Bielorussia è una cosa proprio culturale hanno molta apatia da questo punto di vista non sono proprio avvenuti a questo genere di cose in che periodo stiamo parlando qui siamo al 9 marzo del 2014 e questa cosa va avanti per un po' a un certo punto c'è una svolta e c'è una svolta perché qualcuno alza la temperatura il 12 aprile del 2014 a Slavyansk che è una città in Donbass una città media un gruppo di persone armate come dei militari cosa che non era ancora mai successa e vestite da militari prende il controllo di tutti gli edifici diciamo sensibili della città quindi è già da qui già da qui si capisce che non sono gli ucraini o lo stato ucraino l'esercito ucraino che ha cominciato questa guerra c'è tutta questa storia ancora l'esercito ucraino non si vede e quindi c'è questo gruppo ben specifico cioè si tratta di una cinquantina di persone per lo più a volto coperto chiaramente condivise e addestramento militare che prendono di sorpresa fondamentalmente le autorità ucraine si impadroniscono di un'armeria dell'edificio della polizia ed è un innalzamento notevole del livello dello sconto diciamo che qui cambia tutto perché qui c'è della gente con gli AK per strada che fa presa di territorio cosa che prima non era mai successa queste persone qui è importantissimo sapere chi sono questo è il gruppo di Gierkin ma chi sono le persone del gruppo di Gierkin molti di loro sono stati riconosciuti ad esempio stiamo attenti qui alla persona che ha il cerchietto rosso e a quelle che hanno il cerchietto giallo in queste foto che sono state prese appunto fuori dal municipio di Slavyansk la persona con il cerchietto rosso è un colonnello dei Vedevè quindi è un colonnello in servizio dei paracaduti dei parà russi ed è visibile ancora a Donetsk il 28 marzo del 2015 mentre distribuisce medaglie ai suoi uomini in un video che tra l'altro si trova ancora curiosamente tuttora online non è più indicizzato ma cercandolo si trova scavando e quindi sappiamo che c'era un colonnello poi non è un colonnello dei Vedevè non è l'ultimo che passa è per quanto si tratti di ufficiali sul campo quindi non ufficiali superiori però si tratta di gente insomma che ha un significato in un'operazione di questo tipo tecnicamente è un militare che sta facendo l'occupazione di un deposito di armi in un altro paese cioè un militare russo che sta operando in un altro paese è un colonnello della Vedevice dei paragattutisti tedeschi e russi le altre persone riconoscibili sono dei paramilitari appartenenti a un gruppo che si chiamano i Wolfsandred ed è un gruppo di paramilitari cosacchi cosacchi del Don quindi sono anche questi tutti russi e fanno parte del gruppo che appunto inizia l'innalzamento del livello dello scontro a un livello militare fanno parte del gruppo dei cosacchi cosiddetti non registrati del Don adesso non ci allunghiamo perché se ci mettiamo a aprire parentesi su questo non finiamo mai è molto interessante il fatto che queste persone fanno parte di un'entità che si chiama Guardia Nazionale Cosacca che viene formata da questa persona qui che è l'Atamano Nicolai Ivanovich Kositsin i cosacchi sono organizzati in consigli di tribù presieduti da Atamani hanno un'organizzazione tribale al loro interno e Atamani con un prestigio riescono anche a mobilitare truppe quello che fa Cositsin è che a un certo punto mobilita 4.000 cosacchi del Don e li porta dentro l'oblast di Luansk perché vede nella debolezza dello stato ucraino l'opportunità storica di costruire uno stato indipendente o un oblast indipendente all'interno della federazione russa per i cosacchi del Don che ricordiamo che quelle sono terre ancestrali per i cosacchi e si arriva dietro a Cositsin ce lo dice lui in un'intervista con la Novaya Gazeta Cositsin ci dice molto chiaramente che Novaya Gazeta russa cioè vi ripeto questi sono russi che parlano di quello che succede in maniera aperta qua di Ucraini non ce ne sono e praticamente ci dice che Vladislav Surkov che è uno delle due persone che all'interno dell'amministrazione di Putin si occupa dell'Ucraina l'altro è Glaziev è la loro eminenza grigia e tutto è fatto dalla loro squadra è molto significativo perché la mappa che vedete sotto che è in russo e che non ho voluto tradurre indica la parte viola a righine è la parte controllata nell'autunno del 2014 della Guardia Nazionale Cossacca circa 4.000 5.000 uomini non tutti ovviamente ma in grandissima maggioranza Cossacchi del Don arrivati lì per fondare uno stato cosacco quindi russi spostati all'interno e la parte verde è la parte tenuta dagli indipendentisti se vi ricordate all'inizio quando facevo ancora le mappe a mano con Photoshop c'era questa unità e aveva partecipato all'inizio della guerra poi si è disciolta e scomparsa nel nulla e non so se questo qui è l'appello dell'atamano anche questo si trova sul sito dei Cossacchi del Don ancora oggi online dove si dice che nel sudestere l'Ucraina bisogna difendere la gente dai nazionalisti eccetera eccetera e di applicare per presentarsi come volontari a Mosca no a Novo Sharask street e questo ovviamente è tradotto l'indirizzo perché vuole perché si vuole fare volontario cioè l'indirizzo esatto applicare telefonare presentatevi a Mosca e per andare a occupare l'Uansk adesso non so se Mirko ci fa vedere il video che non abbiamo non siamo riusciti a mettere all'interno della presentazione perché era un video molto grande è una chicca diciamo alla metà di settembre del 2014 la Guardia Nazionale di Mosca la Guardia Nazionale di Mosca fa una parata la città mi pare sia Alchevsk non mi vorrei sbagliare una parata militare dei propri uomini e dei propri mezzi e vediamo che queste persone pur non essendo parte dell'esercito sono riusciti a mettere le mani su un numero impressionante di mezzi militari alcuni sono ucraini ma si vedrà a un certo punto per esempio un T-72B che non fa parte dell'inventario ucraino a un certo punto passano un paio di BTR-82 questa gente qui riesce per dei canali propri a mettere le mani su armamenti pesanti che arrivano dalla Russia e questo può risultare per noi che viviamo in un posto in cui questa cosa è lunare difficile da credere eppure nel nel mondo russo questa cosa ha perfettamente senso è una cosa che viene anche tra l'altro detta più avanti c'è una persona che ci ha scritto un libro tra i guerriglieri su questo e io qui lo devo dire se volete approfondire il fatto su come sia possibile che questo Ataman sia riuscito a prendersi una decina di BMP carri armati altre cose io avevo fatto una live sul procuramento russo con documenti russi perché la maggior parte di queste dichiarazioni sull'andazzo del procuramento russo sono state fatte da quello che era il capo del procuramento russo dell'epoca prima di Shoigu che denunciava che il 40% del fondo praticamente dedicato all'esercito finiva in malversazioni eccetera e c'è tutta una lunghissima live che io ho fatto e che ovviamente è tra le fonti che si chiama proprio corruzione procuramento russo raccontato da Sergei Nikolaevich Fredinsky cioè il capo del procurement che diceva 40% di malversazioni che denunciava che i comandanti di alcuni distretti pagavano la mafia russa che se ti volevi comprare un carro te lo portava via ci sono delle storie allucinanti dove per esempio lui stesso denuncia anche in varie interviste lo potete trovare fatevi due ricerche diceva che c'erano delle ditte che per esempio avevano messo la loro sede legale in un cesso pubblico e che in realtà compravano gli elicotteri in Francia smontati li rimontavano o altri che avevano una sede fittizia o c'è la famosa storia dei giacchetti invernali per la Vedevè dove vengono ne vengono prodotti mille vengono testati dalla Vedevè dicono che sono ottimi poi quando vanno in produzione cambiano l'imbottitura ed era uno schifo quindi se volete andare ad approfondire su come sia possibile che questi cosacchi sono riusciti a ottenere questi mezzi beh se andate a vedere quella live improvvisamente tutto questo vi sembrerà estremamente logico e lineare e anche lì troverete un pacco così di fonti e di documenti di cui molti sono russi cioè è lo stesso capo del procuramento russo che denunciava questa cosa questa cosa tra l'altro viene spiegata in un libro scritto da uno dei protagonisti di quei giorni a Slavyansk che è la persona che vedete nella foto accanto a Igor Gierkin che è di San Pietroburgo è un si occupava della logistica fondamentalmente dei materiali che arrivavano dalla Russia verso i i guerriglieri e che ha scritto un libro che si chiama 85 giorni a Slavyansk dove racconta la propria esperienza e a pagina 233 di questo di questo libro lui descrive in dettaglio l'arrivo di convogli di armi e munizioni dalla Russia stiamo parlando di armi pesanti quindi lui dice proprio questi BMP sono andati a questo gruppo questi pezzi d'artiglieria sono andati a quest'altro gruppo e descrive nel dettaglio questi convogli di armi e munizioni dicendo che cominciano ad arrivare dalla Russia da maggio giugno quindi a maggio giugno del 2014 ricordatevi che lo abbiamo detto prima il 12 aprile c'è il momento in cui i paramilitari entrano in scena a maggio barra giugno c'è già un flusso di armi pesanti che arriva a questi volontari a questi paramilitari nel libro lui dice dalla terra ferma loro la chiamano e dicono arrivano arrivano dalla terra ferma abbiamo messo anche il documento lui è di San Pietroburgo se ricordo bene San Pietroburgo anche lui è un membro del movimento imperiale San Pietroburgo l'estrema destra di San Pietroburgo in questa storia ha un ruolo fondamentale centrale a questo punto della storia cioè nella tarda primavera inizio estate 2014 sono la forza trainante all'interno del del gruppo indipendentista andiamo avanti perché siamo già lunghissimi quando Mirko diceva corpi intermedi qui ancora non siamo al livello in cui Putin è coinvolto però sono coinvolti i personaggi in vista del del regime per esempio in questa intervista il capo di uno dei gruppi di destra più noti di estrema destra più noti russa ci dice molto apertamente che lui è stato contattato prima dell'annessione della Crimea quindi stiamo parlando ma al più tardi di febbraio del 2014 dal vice primo ministro russo Dmitry Rogozhin per chiedergli se poteva radunare delle volontari per andare a invadere il Donbass e che in premio avrebbe avuto diciamo il controllo di una di una città Dmitry Rogozhin è una persona molto importante nel regime era il vice primo ministro è stato il capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos è un pezzo veramente grosso oggi guida una delle più grosse PMC russe quella appunto finanziata da Roscosmos e quindi qui cominciano a emergere questi collegamenti tra il potere russo e queste persone vai e allora per far capire le dimensioni di questo fenomeno usiamo di nuovo delle fonti russe ufficiali la TASS il 27 agosto del 2015 pubblica un articolo in cui parla della nascente associazione dei volontari dei reduci fondamentalmente del Donbass e dice che il numero dei volontari che sono andati a combattere in Donbass dalla Russia al 27 agosto 2015 quindi circa 14 mesi dopo l'inizio diciamo del confronto armato varia tra 30.000 e 50.000 questo per renderci conto delle dimensioni di questo fenomeno del volontarismo di cittadini russi che vanno a combattere in Donbass e l'associazione ha fatto delle riunioni di cui esistono delle fotografie noi siamo riusciti con delle ricerche a identificare molti dei diciamo capi che partecipano a questa riunione non tutti devo dire non sono riuscito a identificare tutti ma molti sì e c'è il nostro amico Surkov sempre esatto il Surkov è l'animatore e il fondatore di questa di questa associazione che usa per di fatto premiare controllare marginalizzare gestire diciamo tutte queste tutte queste persone e andando ad analizzare chi sono queste persone sono tutti russi Roma Antelenkiewicz nato a Mosca capo del gruppo mercenario Enot Group Mikhail Pimenov nome di battaglia Verin nato a Mosca capo del importante gruppo ribelle armata ortodossa russa Alexei Milchakov di San Petroburgo il famigerato capo del gruppo Rusic Konstantin Karagev di Kubishev responsabile del reclutamento nella Russia meridionale dei volontari Alexander Borodai di Mosca che in quel periodo è il primo ministro a Donetsk anche lui ovviamente russo è il ministro degli interni della Repubblica indipendente che è di Ulyanovsk anche lui russo Alexei Milchakov è una persona molto importante nella nostra storia e per dire qual è l'ambiente in cui ci si muove non c'è altro che far sentire la sua di voci secondo me io nazista io nazista io nazista nazista patriota imperialista e tal io nazista poi non facciamo sentire tutto il video un'intervista in cui lui parla di quanto ama prendere trofei dalle proprie vittime di quanto gli piace l'odore dei corpi carbonizzati è una persona fuori da una lavora in una onlus ecco esatto personaggio focale in questo periodo in cui i ribelli sono delle organizzazioni paramilitari delle bande armate che controllano pezzi di territorio è sicuramente Igor Gyrkin che tutti i tuoi ovviamente spettatori conoscono nome di battaglia Strekov colonnello dei servizi segreti una vita a combattere nelle guerre sporche veterano della Bosnia con Karasic poi in Transnistria poi in Cecenia poi in Crimea e infine in Donbass che diventa il capo diciamo delle forze paramilitari ribelli in Donbass che dice sono stato io a premere il grilletto della guerra e ci sono prove che un conto se lo dice è un conto se ci sono prove e controprove di quello che dice perché lui dice che pistola alla mano ho portato io i parlamentari della Crimea a votare esatto e dice soprattutto che se io non l'avessi fatto tutto sarebbe finito come a Kharkiv e a Odessa dove questa è la controprova delle pacifiche o più o meno pacifiche che non avevano portato assolutamente niente e quindi lui aveva bisogno di attizzare questo fuoco dato che con la gente locale e persino con gli autobus e la gente mandata non si era concluso nulla ora detto così lui potrebbe essere un mitomane no è paradossale interessante che la persona che lui di fatto quando arriva esautora perché era il precedente capo dei separatisti ovvero Pavel Guvarev che è un neonazista della Russian National Unity una persona che girava con la sbastica al braccio letteralmente conferma questa versione e dice apertamente in una intervista con un altro propagandista russo Mikhail Kalashnikov che fondamentalmente se non fosse arrivato lui sarebbe finita come negli altri posti e che fu lui dice chiaramente a trasformare quella che era una serie di manifestazioni disarmate di piazza senza denti senza denti dice in una in una rivolta ed è interessante anche che arrivati a questo punto però neanche questo basta non era stata calcolata da chi ha organizzato questa cosa una reazione militare da parte dell'esercito ucraino che arrivato diciamo a luglio 2014 sta vincendo sono veramente ridotti molto male sull'orlo della rotta definitiva i ribelli anche perché l'esercito ucraino ha quasi tagliato il confine riprendendo tutta una fascia di confine con la Russia e quindi tagliando i rifornimenti a queste persone ed è a questo punto che c'è una nuova escalation perché come ci dice Borodai la persona che abbiamo visto prima che è primo ministro a Donetsk in questo momento di Mosca lui dice molto apertamente in un'altra intervista a un canale russo che tutti quelli che sono arrivati dice lui per combattere nel 2014 devono la vita a Putin perché devono la vita a Putin perché a un certo punto lui prese dice lui la decisione e se non avesse preso la decisione dice lui non ci sarebbe nessuna repubblica di Donetsk e che cos'è la decisione di Gierkin sia quello che è stato sostituito da Gierkin che di altri quindi non è Gierkin che è un mitomane Borodai tra l'altro è quello che di fatto poi sostituisce Gierkin quindi diciamo tutta la catena di comando ed è un altro russo come abbiamo detto che cos'è la decisione di cui parla Borodai è l'invio delle truppe regolari secondo la Novaya Gazeta che fa un'indagine a gennaio del 2015 che è russa che era all'epoca il principale diciamo giornale russo oggi è fuori legge nell'articolo dice che al giorno dell'indipendenza ucraina ovvero il 24 agosto 2014 sul territorio ucraino c'erano più di 30 38 dice unità dell'esercito russo fino a 10.000 uomini dell'esercito regolare e questa cosa è diciamo il segreto di Pulcinella oggi nel senso è che oggi noi abbiamo molteplici prove di questo c'è un enorme bellissimo lavoro forense fatto anche dal team di Bellingcat di Forensic Architecture che traccia è uno dei primi grandi lavori Osint diciamo la verità che traccia tutte le prove della presenza di truppe regolari russe in territorio ucraino che sono innumerevoli e innegabile cioè stiamo parlando di una cosa che ha assolutamente il connotato di un fatto storico accertato ad oggi nella battaglia di Ilovac geolocalizzato eccetera se lo trovate nelle fonti si chiama the battle of Ilovac forensic architecture dot org c'è il signor delle similitudini del 2022 cioè i carri armati con la stessa simbologia eccola qui mezzi che vengono utilizzati solo dall'esercito russo T-72B-3 in dotazione solo all'esercito russo quindi non potevano essere separatisti o cose del genere come se ci volesse ancora altre prove di questa cosa e l'uso delle artillerie russe dal confine russo che sparavano all'interno dell'Ucraina con immagini satellitari geolocalizzati video geolocalizzati e tutto il resto c'è di prove ce ne sono centinaia e adesso non lo facciamo vedere non lo facciamo vedere tutto questo è uno spezzone che dimostra la presenza di armi che non possono essere state sottratte all'Ucraini ma soprattutto che sono armi che specialmente in questo periodo della storia erano in mano a reparti neanche gli ultimi arrivati cioè C-72B-3 nel 2014 2015 non è che ce la devono a tutti stiamo parlando di un tank che va in linea mi pare nel 2012 quindi stiamo parlando di armi per l'epoca piuttosto avanzate e è impressionante la quantità di prove di questo di questo uno dei propagandisti all'epoca più famosi Graham Phillips che ha un account YouTube che è anche o ancora oggi attivo il 15 febbraio 2015 carica un video da Debalze del luogo di un'altra delle famose battaglie drammatiche in cui l'esercito ucraino fronteggiando i regolari russi inizia a perdere inizia a retrocedere parliamo di un esercito ucraino che all'epoca era totalmente allo sbando rispetto ad oggi pubblica un video in cui serenamente lui sfila accanto a un'intera compagnia corazzata di T-72 B-3 ed è un'altra ennesima prova che anche a Debalzeve oltre che a Ilovask c'erano truppe regolari truppe regolari russe ma ripeto le prove noi quindi abbiamo portate una parte sono infinite il 18 agosto del 2014 c'è un decreto tuttora online tuttora reperibile del presidente della federazione russa che concede l'ordine di Suvorov quindi uno dei più alti uno di efficienze militari russe alla 76esima avvia trasportata per atti di coraggio ed eroismo dimostrati quindi al 18 agosto 2014 i regolari russi erano già alle medaglie quindi probabilmente in realtà rispetto a quello che stiamo raccontando erano già sul campo dei gruppi probabilmente ristretti ancora prima diciamo che al 18 agosto 2014 già vediamo che questa storia delle medaglie tornerà sulle tempistiche di queste medaglie ovviamente ancora Gierkin che conferma l'intera esistenza della DPR era minacciata in caso di attacco russo le forze che c'erano dei paramilitari fondamentalmente servivano a fare cosa servivano a questa è un'espressione che ritorna spesso ad aspettare l'arrivo delle forze principali le chiamano sempre così le forze principali qui ritorna un po' la sensazione di quello che dicevi tu prima cioè ovvero il fatto che queste persone hanno messo nelle condizioni Putin di intervenire di non poter non intervenire e stiamo parlando di persone esecutive quindi persone tra virgolette di basso livello Gierkin è un manovale della guerra sporca però finanziati e organizzati da corpi intermedi del regime si non è Putin stesso sono i vari oligarchi fatto Gierkin è quello che in altri video in altre intercettazioni dice tranquillamente quello che stava succedendo non portava a niente io ho preso la decisione per conto mio ho fatto un carrozzone di 200 uomini e ho deciso di andare a Seviero Donetsk e qui invece ci racconta in questo video che se non c'era l'intervento dell'esercito corso regolare noi si erano stati spazzati via dagli ucrini questa cosa succederà due volte esatto e Gierkin era un dipendente di Konstantin Malofev il cosiddetto oligarca di Dio abbiamo visto che spunta in più di un'occasione Dimitri Logojin quindi diciamo personaggi del regime non secondari ma neanche di vertice c'è il ruolo di Surkov detto il ceceno quello che abbiamo detto prima era diciamo il numero 3 probabilmente in quel periodo del regime russo e lo è stato per un decennio Gierkin poi è uno che parla tanto negli anni è una miniera di informazioni da questo punto è uno a cui piace parlare e in una delle sue interviste dice che fondamentalmente lui era incrinato a comandare i paramilitari già prima del momento della secessione e dice a un'altra persona durante un dibattito che lui non ha visto nessun supporto dagli organi di governo locali alla secessione lui era a Sinferopoli e dice non ho visto nessun supporto quello che abbiamo fatto è radunare come bestiame i deputati portarli in Parlamento e fargli votare la secessione pistola alla mano io l'ho visto con i miei occhi ci sono prove di quello che dice Gierkin allora intanto c'è un'altra 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 conferma che arriva negli anni dopo cioè il capo della comunicazione il portavoce della DPR questa è una cosa che a loro effettivamente evidentemente brucia molto nel 2019 scrive un articolo dove dice meno dell'1% degli uomini abili alle armi nel 2014 si unirono alla nostra milizia e questo è un altro articolo che si trova ancora online in cui lui si lamenta della mancanza di supporto popolare le prove di tutto questo poi cominciano noi abbiamo il video del momento in cui i paramilitari i noi paramilitari scusami i paradutisti russi il 27 febbraio del 2014 alle 4 e mezzo irrompono all'interno del parlamento della Crimea e così inizia questa storia così inizia questa storia inizia altro che guerra civile un per cento di persone che nemmeno volevano partecipare in questa storia tutti gli organizzatori sono russi tutti i finanziatori sono russi ci sono forze regolari russe possiamo chiedere ai nostri spettatori se e questa ripeto è una selezione delle cose che potremmo dire su questo tema fatta molto a ripasso perché potremmo andare avanti altre due ore solo su questo tema chiudiamo questo capitolo con una nota tra il divertente ma anche il significativo le medaglie che sono state distribuite per le operazioni in Crimea portano come data di inizio delle operazioni il 20 febbraio 2014 il 20 febbraio 2014 c'era ancora il governo c'era ancora Yanukovic come presidente non era ancora caduto questo testimonia che loro erano già partiti ancora prima della caduta del governo esatto questo anche perché questo è più il tuo campo che il mio ma se l'operazione è partita il 20 era già stata un minimo di pianificazione ci doveva essere prima di partire quanto avessero già gli uomini sul posto perché c'erano però passiamo passiamo oltre passiamo a un'altra dichiarazione che ha fatto travaglio che hanno continuato a bombardare le popolazioni russofone fino al giorno dell'invasione russa e questa è la più nota probabilmente dichiarazione che si fa cioè che gli ucraini hanno bombardato ininterrottamente per otto anni i russofoni allora fin qui abbiamo riconsuito il fatto che non è una sollevazione di massa del Donbass che si sono dichiarati separatisti perché non c'è un solo leader dei separatisti che non fosse russo e venisse dalla Russia e poi lo vedremo che addirittura i partiti delle stesse zone vengono fatti fuori praticamente dai nuovi partiti separatisti e qui ci sono i dati i dati OSCE se ricordo bene che fanno vedere come questa guerra stava scemando e questo può essere un altro motivo del perché poi Ghirchi intenta sempre di accelerare le cose esatto qui vediamo con i dati dell'OHCHR quindi dell'ONU come fondamentalmente dopo la fase diciamo di guerra guerreggiata che finisce più o meno nel 2015 quindi finisce con i trattati di Minsk si va verso una diminuzione fino a che negli ultimi tre anni abbiamo circa una ventina 25 vittime civili stiamo parlando di vittime civili all'anno però per armi siamo sulla decina la maggior parte di queste vittime ormai sono perché l'area è cosparse disseminata di mine e proiettili morti per armi indianicali per 1 12 sono morti per mine e munizioni inesplose esatto e quindi diciamo questa idea che si è continuato tanti come Travaglio dicono magari non proprio Travaglio ma tanti di quelli che narrano questa storia dicono no ma Putin è intervenuto per fermare una strage un genocidio dei filorussi come si può vedere dal 2016 al 2021 sta finendo e ha finito tutto in questo senso cioè nessuno parlerebbe di genocidio ma qualcosa doveva arrivare prima il numero di violazioni del cessato del fuoco era enorme ovviamente il cessato del fuoco è sempre stato un cessato del fuoco però parliamo di 93.000 violazioni del cessato del fuoco osservate dall'OSCE nel 2021 con 10 vittime civili non sappiamo quante siano quelle militari comunque si trattava di un più o meno è stato modificato in 6.000 ucraini e 4.500 separatisti negli 8 anni comunque era chiaramente una guerra stava andando verso un congelamento anche perché le linee erano immobili non c'era nessuna attività offensiva né da una parte né dall'altra fondamentalmente ci si sparava a distanza da una trincea all'altra da una posizione all'altra periodicamente ma comunque nessuno bombardava di fatto più nessuno questo è il punto al contrario se noi vediamo quello che è successo tra febbraio agosto il 2022 nella seconda invasione dell'Ucraina noi vediamo che soltanto tra febbraio e marzo muore il numero di civili che è morto nei precedenti 8 anni e quindi siccome è una argomentazione che sentiamo spesso quella di eh ma sono stati bombardati per 8 anni e quindi è dovuto intervenire noi possiamo dire che dati ci dicono e la situazione era radicalmente diversa e che soprattutto l'intervento nuovo intervento la seconda invasione ha peggiorato le condizioni di chiunque all'interno di questo spazio continuiamo eh passando a un'altra frase che ha detto eh Travaglio la guerra in Ucraina non ci sarebbe stata se gli Stati Uniti avessero dichiarato pubblicamente che l'Ucraina restava neutrale e che il Donbass e la Crimea diventavano zone autonome come il Trentino Alto Adige allora non mi dilungherei se tu sei d'accordo sulla discettazione di diritto internazionale per cui dire che gli Stati Uniti avrebbero dovuto dichiarare che l'Ucraina rimaneva neutrale è una cosa che dal punto di cui lì non si capisce come un altro paese possa decretare cosa deve fare un altro paese rispetto a un terzo paese addirittura dal punto di vista del diritto internazionale è una scemenza colossale non è che gli Stati Uniti si possono svegliare domani mattina e fare una dichiarazione l'Ucraina rimane neutrale rispetto a cosa poi rispetto alla Russia parlando questa cosa poi vedremo anche nella Costituzione Ucraina vedremo come è cambiata proprio in questi anni esatto allora lui di qui dice due cose se l'Ucraina fosse stata neutrale non sarebbe stata invasa se la Cremea e il Donbass avessero avuto autonomia non ci sarebbe stata la guerra nel 2014 come abbiamo visto l'Ucraina viene invasa in quel momento è neutrale perché il presidente di Janjkovic a luglio del 2010 quindi poco dopo essere stato eletto aveva fatto mettere in Costituzione il fatto che l'Ucraina era uno Stato non allineato poi era non allineato nel senso che aveva una base militare e 25.000 soldati russi sul proprio territorio quindi anche qui potevamo considerarla neutrale e noi la consideravamo neutrale ma se poi ha dei rapporti con qualche Stato occidentale o fa un'esercitazione con la Nato non possiamo più considerarla neutrale anche se anche quella è stata l'Austria che nel 1956 è diventata neutrale non aveva né basi americani né basi russe mentre qui è un paese neutrale con però 25.000 militari russi e una base russa dentro esatto io non credo che io gli riconosco la neutralità in realtà nonostante quello all'Ucraina in quel periodo non credo che Travaglio farebbe lo stesso a parti invertite se ci fosse stata una base militare americana e 25.000 soldati americani sul territorio ucraino non credo che avrebbe detto che era neutrale invece l'Ucraina era neutrale in quel periodo era neutrale perché l'aveva scambiata questa cosa come abbiamo detto nel patto di Kharkiv cioè aveva accettato di prolungare l'affitto la base di Sebastopoli e avere 25.000 soldati sul proprio territorio ecco visto che si parla proprio di questo double standard doppio standard su questa questione io ricordo il professor Orsini che ama sempre utilizzare parole come mega iper eccetera che denunciava le mega esercitazioni della Nato e io qui chiedo al pubblico qual è l'utilizzo mediano diciamo di una persona che utilizza la parola mega perché uno si aspetta a mega e dice ammazza se i russi hanno 25.000 uomini nella base di Sebastopoli le mega esercitazioni della Nato saranno state 50 100.000 uomini e lui ovviamente parla di queste operazioni cioè tre spade tre dente rapido se non sbaglio ce n'era una terza quindi di quanti uomini stiamo parlando se andiamo a vedere metti la slide 1200 soldati era questa super mega operazione Nato ora vedendo il conflitto di per sé di oggi ci si può rendere conto che 1200 uomini possono minacciare l'integrità territoriale della Russia considerato che Russia hanno tentato di invadere l'Ucraina con 200.000 uomini e che in questo momento si affrontano più o meno tra una parte e l'altra 400.000 uomini anzi Putin dice i suoi schierati sono 600.000 ovviamente non è credibile non ho mai dovuto correggerlo sui fatti perché è una specie di tipo della mirandola sa tutto per un anno e mezzo hanno raccontato solo balle io ho la fortuna di avere il generale Mini quello che dice il travaglio qui è che lui ha la fortuna di avere il generale Mini e Orsini e che Orsini è una specie di picco della mirandola sa tutto e ovviamente si sente il sarcasmo di Shai che risponde sa tutto e qui insomma noi senza commentare neanche ma semplicemente guardando fattualmente quello che è stato detto da loro uno poi può giudicare se sanno tutto e se quello che dicono insomma è veritiero e portiamo degli esempi di queste dichiarazioni di questi picco della mirandola sì allora su Orsini vi farei di allungarci notevolmente di più io timidamente se tu me lo permetti segnalo che ho fatto un video sulla sua diciamo posizione circa il memorandum di Budapest secondo me non l'ha neanche mai letto diciamo anche perché diceva che è stato firmato a Mosca poi c'è la famosa storia di William J. Ampio detto Broad per gli amici guardatevi su questo video e troverete tutti gli errori di Orsini che ci spiega il memorandum di Budapest e chiunque guardando quel video si rende conto che lui non l'ha maletto non ne sapeva assolutamente niente e chi non sa neanche cosa è successo in vent'anni di rapporti diplomatici tra Nato Russia Nato Ucraina che sono fittissimi perché c'è una quantità di trattati qui nel video ne parlo però vabbè per chi è interessato se lo vado a vedere se ci mettiamo a parlarne qui ne parliamo un'ora anche solo di questo il generale Mini invece che è un militare di altissimo grado io non ho le competenze per dire se nel suo campo sia ovviamente sarà bravissimo perché ha fatto una carriera notevole io questo non lo metto in dubbio ci mancherebbe però quando si parla di questo tipo di analisi non posso registrare che ad esempio cita delle fonti come Karsten Riese Karsten Riese è un membro di un think tank che si chiama Russian International Affairs Council che è direttamente controllato dal Cremilino è uno dei più grossi think tank e uno può legittimamente dubitare della bontà di un think tank direttamente controllato e finanziato dal Cremilino che lui legge su un sito che si chiama Global Research Global Research è un contenitore complottista che probabilmente Mini apprezza perché tra le altre cose ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui dice che crede alle scie chimiche ma su Global Research si trovano delle cose tipo tesi complottiste sull'11 settembre sul Covid sul fatto che gli incendi alle Hawaii sono stati causati da armi laser o quello che ho trovato io più bello di tutti devo dire il fatto che il golpe in Niger sia stato organizzato da Biden e Meloni e questo è diciamo che Biden avesse bisogno della Meloni per fare un golpe di quel tipo considerato che c'erano delle unità della Wagner e che noi l'abbiamo preannunciato faccio un po' di protomomea si fece una live con alcuni analisti e gli hanno detto è a rischio golpe due giorni dopo golpe perché in realtà un ambasciatore ci aveva detto che erano già due giorni che c'erano molti in macchina che giravano con le bandiere russe come dire già era tutto molto organizzato stava succedendo qualcosa e in più il generale Meni è una persona che ha delle opinioni molto radicali sull'Ucraina ad esempio è una delle poche persone al mondo che considera il referendum di annessione con cui la Russia si è annessa gli oblast occupati come validi per dare un'idea neanche gli alleati del CSTO la Nato della Russia hanno riconosciuto quei referendum neanche il Kazakistan ha riconosciuto il referendum cioè neanche la Serbia neanche nessuno ha riconosciuto come validi quei referendum per dare idea di quanto questa opinione sia estrema oggettivamente al di là di qualche internazionale cioè se non ci sono degli osservatori internazionali già sono delle repubbliche separatiste autonominate poi si fanno una votazione vedremo anche degli audio dove addirittura i separatisti parlano dei voti che dovrebbero prendere e una settimana prima prevedono esattamente i voti che prenderanno e già ci siamo capiti esatto e tra le altre cose Mini è una persona che da aprile del 2022 dice esattamente quello che qui stiamo cercando di smentire che ha detto Travaglio ovvero che la guerra è cominciata con un'insurrezione delle province del Donbass poi di eratesi indipendenti e che da allora le forze americane hanno martoriato la popolazione russofona e come abbiamo visto abbiamo speso circa un'oretta per spiegare perché secondo noi questo storicamente è scorretto secondo noi ma soprattutto secondo tutti i russi che combattevano da quel lato e sotto lo dico con questi russi non è secondo noi queste sono fonti di russi che dicono è andata così se lo raccontano da soli poi uno può prendere o mi trova tutta una serie di fonti dall'altra parte dove ci sono degli ucraini che dicono no no l'abbiamo fatta noi eccetera da mettere a comparare ma io onestamente non le ho mai trovate queste cose continuando a diciamo su quella dichiarazione di travaglio qualcuno potrebbe dire ma c'era il nuovo governo e quindi la neutralità diciamo era stava per scomparire in realtà ci sono delle dichiarazioni piuttosto nette in questo momento stiamo parlando del 29 marzo 2014 è in carica da circa un mese un governo di unità nazionale in Ucraina e ovviamente una delle prime cose che gli chiedono è come vi posizionate rispetto e il ministro degli affari esteri di quel governo dice chiaramente che è uno stato non allineato e che il governo non ha intenzione in questo momento di cambiare questo aspetto anche perché era un governo di unità nazionale che aspettava elezioni a mesi per cui era un fatto che non era diciamo nella sua disponibilità neanche ma questa cosa cambierà poi dopo l'invasione dopo la Crimea quindi a Crimea già annessa il governo di unità nazionale dice che non vuole andare verso la Nato rinuncerà alla neutralità con un indirizzo politico a dicembre del 2014 anche se effettivamente la costituzione in Ucraina cambia e toglie la neutralità solo nel 2019 quindi dopo cinque anni in cui ha tre due pezzi di oblast e un oblast intero occupati come abbiamo visto dalle truppe russe questo noi lo dobbiamo riportare perché oggi non è più uno stato neutrale per costituzione l'altra cosa che dice Travaglio che a me ha colpito molto onestamente è che non ci sarebbe stata la guerra se la Crimea avesse avuto l'autonomia dell'Alto Adige ora io onestamente sono rimasto abbastanza sorpreso da questa affermazione perché chiunque si sia occupato di spazio post sovietico e della storia dell'Ucraina sa benissimo che la Crimea aveva un'autonomia molto più ampia dell'Alto Adige nel momento in cui viene invasa e annuncia storicamente quando trovava l'Unione Sovietica addirittura la Crimea si dichiara indipendente fanno anche una piccola guerra contro l'Ucraina poi raggiungono un accordo con uno statuto speciale anche perché poi non si capirebbe come fai a rastrellare i parlamentari della Crimea se non è già una repubblica autonoma con uno statuto speciale che poi è quello che ha fatto Gierkin e che racconta quindi già godeva di quello status lì godeva di un'autonomia come ho detto il travaglio la paragona quella dell'Alto Adige e quella della Crimea era molto più ampia aveva una propria costituzione l'Alto Adige non ha una propria costituzione diversa da quella italiana aveva un proprio parlamento aveva un'autonomia dal punto di vista legislativo fiscale di bilancio molto molto ampia quindi anche questa affermazione onestamente non capisco su cosa sia basata per quanto riguarda l'autonomia del Donbass non c'era autonomia nel Donbass ma anche perché nessuno l'aveva mai chiesta cioè non c'era un movimento autonomista nel Donbass prima della primavera del 2014 sì esistevano piccoli gruppettini ma in realtà il partito Gemone in Donbass era il partito delle regioni era il partito che governava a Kiev e non c'era una domanda di di indipendenza o di autonomia particolare anche perché se ci fosse stata essendo al governo probabilmente gliel'avrebbero gliel'avrebbero data a Minsk però l'Ucraina firma un accordo in cui dice che darà un'autonomia speciale al Donbass e nove giorni dopo aver firmato approva una legge che garantisce a queste regioni un'autonomia quindi uno statuto speciale e garantisce che abbiano il russo come lingua istituzionale è una legge imperfetta è una legge ci sarà un dialogo tra la commissione di Venezia e il governo ucraino lungo per migliorarla è una legge che non risponde a tutti i requisiti che erano nei protocolli di Minsk è una legge che però dall'altro lato non è mai stata neanche presa in considerazione come base di discussione dai separatisti perché non gli interessava fondamentalmente perché non hanno mai voluto in realtà l'autonomia all'interno dello Stato dello Stato ucraino abbiamo introdotto qui il discorso dei protocolli di Minsk ovviamente Travaglio parla anche di questo ci sono stati due patti a Minsk violati dai governi ucraini i due protocolli di Minsk non sono stati rispettati da nessuno e dovremmo parlare probabilmente per un'oretta solo del perché sono un esempio di trattativa diplomatica nata fallita in cui nessuno ha veramente mai creduto però noi sappiamo quali erano i punti e possiamo onestamente dire che l'affermazione ci sono i patti di Minsk violati dai governi ucraini è molto scorretta secondo me cioè diciamo che su una scala da 1 a 10 se noi dovessimo dare un voto l'Ucraina avrebbe probabilmente un 4 in quanto implementazione degli accordi di Minsk ma penso che sia innegabile che la Russia avrebbe uno 0 dal punto di vista il punto 2 il punto 3 dei protocolli di Minsk si occupavano della creazione di una zona demilitarizzata e del monitoraggio di questa zona demilitarizzata da parte dei team dell'OSCE che doveva fare da garante della situazione quindi la creazione di una zona in cui non c'erano armi pesanti dal punto di vista delle ispezioni se noi andiamo a vedere i documenti dell'OSCE noi vediamo che il punto numero 3 dell'accordo dell'accordo di Minsk assicurare l'effettivo monitoraggio e verifica del regime di cessate il fuoco e di rimozione delle armi pesanti da parte dei team dell'OSCE viene rispettato dall'Ucraina grosso diciamo in larghissima parte ma non viene assolutamente rispettato dagli indipendentisti e dalla Russia anno su anno noi possiamo prendere i rapporti OSCE che troverete nelle fonti e verificare come ad esempio prendendo un anno a caso ma sono tutti così nel 2020 ci sono 655 casi in cui ai team dell'OSCE viene impedito di fare il proprio lavoro di questi 630 sono nei territori fuori dal controllo del governo di Kiev quindi ordini di grandezza diversi quindi il punto numero 3 sicuramente stando a chi doveva valutarlo l'Ucraina lo rispetta e la la Russia e gli indipendentisti no dal punto di vista poi del ritiro delle armi pesanti sempre dati degli OSCE che ripeto non ci sono altri dati perché queste sono le persone che dovevano misurare questa cosa secondo gli accordi su 100 armi pesanti in violazione degli accordi di Minsk 85 erano dal lato degli indipendentisti e russe quindi in una situazione in cui questo è un grafico del 2021 il 91% delle volte in cui l'OSCE vuole andare a controllare se ci sono delle armi pesanti in violazione degli accordi di Minsk non ci può andare è per nella parte nonostante questo l'85% delle armi che l'OSCE riesce a rilevare in violazione dell'accordo di ritiro delle armi pesanti è da quella parte lì il che ci dà una misura di come questa punto 2 e punto 3 siano in percentuale di più o di meno mi sembra palese insomma chi ha ottemprato a zero i requisiti e chi almeno ne ha fatti una parte esatto chi quantomeno come hai detto tu giustamente ci ha provato ci sono poi delle altri punti importanti per esempio c'è il ritiro di tutte le formazioni armate straniere e dei mercenari e dell'accopaggiamento militare c'è il fatto che l'Ucraina deve portare avanti una riforma costituzionale per la decentralizzazione del potere quindi per creare fondamentalmente un regime più con un termine scorretto direi federale in realtà si parla di decentralizzazione cioè di affidare alle regioni più poteri da un lato il punto numero dieci quindi ritiro delle formazioni armate straniere è ovvio che coinvolge le truppe russe che noi abbiamo visto c'è un problema però i russi non hanno mai ammesso che quelle truppe fossero lì quindi in una situazione in cui avrebbero dovuto per ottemperare ritirare delle truppe che erano lì non hanno mai ammesso che quelle truppe fossero lì e non le hanno mai ritirate e quindi anche qui è un punto in cui è la Russia qui che non ha rispettato gli accordi di Minsk e di questo ci sono prove infinite io ora qui ho messo alcuni ritagli ma questi soldati venivano catturati periodicamente perché erano migliaia di soldati a volte sconfinavano a volte anche in una situazione di guerra a bassa intensità ci sono decine di prigionieri che vengono scambiati ed erano truppe regolari russe durante tutto questo periodo addirittura ci sono sentenze di tribunali più d'una che fanno emergere come ci fossero truppe regolari durante questo periodo in cui ripeto la Russia non ha mai ammesso che fossero in Ucraina le truppe che aveva accettato di ritirare secondo secondo Minsk in più c'è il tema del fatto che i separatisti hanno sempre detto apertamente in più occasioni di non voler rispettare gli accordi di Minsk finché potevano non farlo ovvero finché erano in vantaggio militare e stiamo parlando della prima metà del 2015 quando sono supportati appunto da queste truppe regolari russe ci sono più dichiarazioni in cui apertamente dicono io voglio arrivare a quella città lì io voglio quella città lì che era di là dal confine di questo cessato il fuoco e questa è una cosa che si ripete anche qui ripeto ne ho prese due ma ne avrei potute ce ne sono molte altre per quanto riguarda il punto che abbiamo visto prima ovvero la riforma costituzionale dell'Ucraina per la decentralizzazione effettivamente questa c'è stata poi anche qui c'è un disaccordo sul fatto che ai separatisti non va bene perché non è quello che vorrebbero il problema fondamentalmente di Minsk è questo cioè che ognuno dà delle interpretazioni diverse è un documento che è molto vago è scritto molto male il punto vale però mentre da una parte viene raccontato che praticamente è tutta colpa degli ucraini hanno cominciato loro la guerra non è stata data autonomia non hanno rispettato gli accordi di Minsk e ci si rende conto invece in tutta questa storia uno che sono tutti rossi due che lo statuto e l'indipendenza della Crimea c'era già e tre che se uno va veramente a fare le pulci di questa questione si vede che quanto meno gli ucraini ci abbiano provato abbastanza mentre dall'altra parte proprio zero e invece la narrazione che viene fatta è che sia completamente colpa degli ucraini il che non è assolutamente veritiero ci sono manchevolezze ci sono colpe cose del genere ma siamo ben distanti insomma da uno scenario di questo tipo beh vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro e quello che facciamo in questo canale c'è l'offerta di due anni di NordVPN con quattro mesi extra quindi se fate il biennale e in più vi danno un coupon di tre mesi che potete dare a un'altra persona ad esempio quindi questo è un modo per supportare i canali vi ricordo che questa offerta funziona solo se utilizzate il codice del content creator quindi il mio codice nordvpn.com slash parabellum io ringrazio tutti quelli che vogliono supportare anche perché questa live ha 6-7 pagine di fonti e ci siamo dannati per riuscire a farla nonostante gli strike dove hanno tentato insomma di occultarcela diciamo quindi grazie ancora e non possiamo dare un po' di autonomia al Donbass facendo decidere al popolo del Donbass e al popolo dell'Acri perché hanno così paura di fare un referendum sotto legge dell'ONU e dell'Octe per far decidere dalle popolazioni del Donbass e della Crimea da chi vogliono essere governati però scusate io ho l'impressione che abbiano paura di scoprire che abbiamo trasformato una crisi locale in una guerra mondiale noi sì certo non gli occidenti ma cercavano di scoprire i teleschi perché perché ci siamo raccontati che dobbiamo difendere delle popolazioni che vogliono essere governate dai russi dalla Russia raccontiamole queste allora posto che allora qui abbiamo parlato degli accordi di Minsk gli accordi di Minsk si dice che ci dovevano essere libere elezioni secondo la legge ucraina monitorate dall'OSCE una delle prime cose che viene fatta dai separatisti direttamente controllati dalla Russia è quella di indire elezioni non monitorate dall'OSCE e secondo una legge propria è proprio passa un mese e mezzo tra quando viene firmato l'accordo di Minsk e quando iniziano a organizzare le elezioni in Donbass e l'OSCE protesta perché dice se fate le elezioni così vuol dire che le elezioni nostre le elezioni secondo le nostre regole ovvero quelle internazionali non ci saranno contemporaneamente tra l'altro le elezioni in Ucraina ci sono perché come era stato programmato si fanno elezioni presidenziali e parlamentari e i partiti filorussi che si chiama a queste elezioni blocco di opposizione partecipa a queste elezioni e prende anche il 10% prende più di 2 milioni di voti l'unico posto in cui gli ucraini non possono votare per un partito filorusso all'interno dell'Ucraina sono quelle occupate dai separatisti e la Crimea che è l'unico posto in cui non si tengono elezioni monitorate dall'OSCE in Ucraina ma vengono impedite quindi questa voglia di contarsi da che parte la possiamo tra l'altro le elezioni che vengono organizzate sono elezioni un po' particolari che una settimana prima del referendum del 2014 per la nascita di queste repubbliche separatiste viene diffuso un video da parte dei servizi segreti ucraini in cui ci sono due persone legate all'organizzazione proprio di questi di questi di questi referendum e in cui uno dice all'altro guarda io non riesco a organizzare delle elezioni perché siamo in una situazione qui ci stiamo sparando c'è la guerra stiamo parlando di maggio del 2014 e quell'altro dice scusa ma mica vorrai veramente girare con le urne raccogliere le raccogliere le schede metti che abbiamo vinto col 99% no vabbè non 99% diciamo 89% dice per cui si sta cantando vinto esattamente con l'89% ora i casi della vita le due persone che sono intercettate ovviamente questa è un'intercettazione diffusa dai servizi che gli ucraini noi non possiamo sapere se è vera però comunque nel caso hanno beccato esattamente la percentuale a cui vinse quel referendum tra l'altro la persona che sta parlando è Oleg Barkashov che è il capo di Russian National Unity è questa persona qui ed è il capo di questo movimento qui così la metto come nota a margine quindi non mi sembra LGBT plus così a occhio Russian National Unity è fuori legge anche in Russia cioè in Ucraina può operare in Russia è fuori legge in Ucraina cioè nell'Ucraina occupata può operare nel Donbass occupato può operare in Russia no io vedo un fil rouge continuo in questa storia tra l'altro c'è un altro caso abbastanza particolare per il partito delle regioni quello che poi si presenta con un nuovo nome alle elezioni del 2014 in Ucraina come blocco d'opposizione è il partito comunista il partito comunista verrà messo fuori legge in Ucraina ma la cosa particolare è che viene messo fuori legge anche in Donbass cioè alle elezioni gli viene impedito di partecipare con la motivazione che hanno sbagliato le carte hanno sbagliato a compilare i moduli stiamo parlando di un partito che prendeva il 20% in quelle zone e la volta la volta in cui riescono a eleggere tre deputati questi vengono fatti decadere dicendo che c'era una mancanza di fiducia verso di loro e vengono arrestati e sul perché i vecchi partiti non siano riusciti a sopravvivere c'è una dichiarazione del comandante del battaglione Vostok che si trova in un articolo in un'intervista che è nelle fonti che mi ha molto colpito Alexander Kolakowski capo del battaglione Vostok una delle più grosse e famose formazioni ribelli che dice il motivo per cui questi partiti non sono riusciti a partecipare alle elezioni è che hanno fallito la mutazione da movimento socio-politico a gruppo armato questo è l'ambiente in cui si svolgono questo tipo di elezioni e come nota finale ci metterei il fatto che anche in Crimea abbiamo visto quello che è successo prima con Gierkin in Crimea succede che il 17 marzo del 2014 la Crimea viene annessa con la firma di tre politici alla Russia il 17 aprile si fanno le elezioni un mese dopo e già questo è abbastanza curioso riguardo alla volontà di chi è che si vuole contare quello che colpisce però è che da subito viene messo al comando questo signore che si chiama Axionov che era il più filorusso tra i politici filorussi della Crimea ma era una persona a cui viene dato un potere totale da subito da Putin che nel Parlamento della Crimea valeva 29.000 voti aveva preso il 4% e aveva tre deputati fino ad allora e quando si presenta alle ultime elezioni del Parlamento dell'Ucraina prima dell'annessione è uno che arriva a quarto e prende il 9% e diventa da subito il dominus dell'Ucraina e alle prime elezioni organizzate un mese dopo che Putin l'ha messo in quel posto prende il 75% questo è l'ambiente in cui ci si muove quindi al di là del fatto che secondo me l'idea che sia l'Occidente che ha paura delle elezioni rispetto al mondo di Putin già di per sé se ne potrebbe insomma parlare ma questo è l'ambiente in cui si si vota nei territori nei territori occupati e qui ho trovato anche questa affermazione estremamente singolare come la seguente in Parlamento ci sono almeno tre partiti neonazisti che fiancheggiano il governo di Zelensky allora questa qui è un'altra affermazione di cui io faccio fatica a capire razionali cioè posto che il Parlamento dell'Ucraina ha otto partiti posto che il dato politico più importante delle elezioni del 2019 come segnalato anche da Arez che è abbastanza sensibile giornale israeliano a questi temi è stata la sconfitta dell'estrema destra alle elezioni del 2019 che è sparita dal Parlamento di fatto chiunque può verificare quali sono i partiti che sono in Parlamento oggi c'è il partito di Zelensky servitore del popolo che è da solo al governo perché ha i numeri per governare da solo ci sono due partiti che sono in appoggio esterno ci sono dei partiti che sono all'opposizione tre e ci sono due partiti che hanno delle posizioni diciamo liquide ora io non lo so quale di questi travaglio voglia definire neonazista perché onestamente io faccio molta fatica a trovarne uno sicuramente non ci sono partiti di sinistra nel Parlamento ucraino questo è vero sono tutti partiti più o meno di centrodestra però l'unico partito di estrema estremissima destra nell'arco costituzionale ucraino diciamo l'unico partito che si è presentato alle ultime elezioni e che può essere definito un partito ultra nazionalista se non neofascista è Sboboda che concentra al proprio interno rappresentanti è interessante vedere che tra il 2008 e il 2019 nonstante la guerra è in corso quindi teoricamente quelli più fanatici dovrebbero aumentare in realtà Sboboda passa da 2 milioni a 700 mila a 300 mila nell'ultima cosa mettendo cosa uno o tre parlamentari una roba del genere alle elezioni del 2019 Sboboda prende il 2,15% quindi non supera lo sbarramento quindi non elegge parlamentari nella vota proporzionale ne elegge uno in un singolo collegio su 249 che ne presenta quindi ha un parlamentare nel gruppo misto stiamo parlando di un partito che mi sembra un po' poco per chiamare la denozificazione di un paese se c'è un parlamentare di un partitino che prende 300 mila voti che è finito nell'iperuragno tra l'altro Sboboda è un cartello di tutti i movimenti diciamo dentro c'è il settore destro che si erano uniti per cercare di fare di fare massa e come detto uno dei dati politici significativi dell'elezione del 2019 era proprio che l'estrema destra era sparita al Parlamento sebbene come viene anche detto da Arez alcune delle sue posizioni la sua retorica nazionalista sia diventata parte del dibattito politico ucraino però questa qui l'affermazione secondo cui ci sarebbero tre partiti nazisti nel Parlamento ucraino che sostengono il partito di Zelensky è onestamente per me incomprensibile per me è incomprensibile tra l'altro c'è da dire una cosa i partiti di estrema i movimenti di estrema destra non sostengono Zelensky i movimenti di estrema destra odiano Zelensky Zelensky è stato minacciato di morte da queste persone e abbiamo delle prove perché quando lui ha provato a parlare con questi va a essere preso esatto ma soprattutto abbiamo il fatto che quando Zelensky vuole davvero fare la pace con la Russia c'è addirittura un movimento che non diventa mai di massa che si chiama No la capitolazione ci sono delle manifestazioni in piazza nel 2019 dire che l'estrema destra ucraina sostiene Zelensky è proprio sbagliato loro fondamentalmente lo detestano proprio lo detestano hanno manifestato contro lui sono state minacce dirette alla sua integrità fisica da parte di queste persone cioè sono andati in televisione a dire deve stare attento perché sono proprio due cose diverse quindi ripeto per me questa questo è tutto pre-guerra quando lui tentava in qualche modo di risolvere la situazione poi ovviamente in guerra questi hanno combattuto tutto il periodo sono stati integrati e poi abbiamo visto anche personaggi dell'esercito tranquillamente mostrare simbologia di bravi sex comunque negli eserciti insomma la destra bella intensa c'è ma questo è interessante vedere se queste sono le cause della guerra perché un conto è ragionare quando c'è la guerra ovviamente gli estremismi si acquiscono ma qui siamo pre-guerra cioè le ragioni che vengono date dai russi e quello invece che succedeva in Ucraina esatto e tuttora uno degli eroi nazionali dell'Ucraina si chiama Stepan Bandera ed è uno che ha collaborato a gassare alcuni milioni di ebrei collaborando con i nazisti questa è la storia che nessuno può cancellare che non giustifica l'invasione di Putin aiuta semplicemente a contestualizzare chi ci stiamo per mettere in casa nell'Unione Europea e qui io queste cose ne ho raccontate veramente tantissime il fatto di voler semplificare una storia come questa è una cavolata di per sé io dico solo questo quando i tedeschi entrano in Ucraina praticamente gli ucraini si dichiarano indipendenti questa cosa non piace ai tedeschi assolutamente e quindi il leader Stepan Mandela venne preso prelevato e messo in una galera galera dorata e per carità non è che lo trattavano malissimo però si fa praticamente fino al 44 Sachsenhausen che non è proprio un posto di villeggiatura quindi l'UPA Lombi viene gestito praticamente da altri cioè una specie di separazione questi collaborano con i nazisti sia i pogrom ma io racconto sempre che la storia dell'antisemitismo era già radicata addirittura nella guerra sovietico-polacca quando i polacchi entrarono a Ilviv siccome gli ebrei che erano il 30% di Ilviv non si allinearono né con gli ucraini né con i polacchi sia gli ucraini sia i polacchi se la presero con gli ebrei l'antisemitismo era un qualcosa di molto radicato in quelle parti d'Europa l'altra cosa che viene spesso raccontata nei documentari soprattutto fatti da persone tipo Mazzucco io non mi faccio problemi a fare nome è questa semplificazione i tedeschi entrano in Ucraina sia l'anno che i tedeschi in realtà la prima vera unità militare dell'SS la divisione Galizia venne fondata il 28 aprile 1943 cioè due anni dopo l'ingresso dei russi e un anno dopo visto che i tedeschi cominceranno a perdere la guerra e i russi cominceranno a entrare in Ucraina gli ucraini se ne passano bellamente dall'altra parte si mettono a combattere sia contro i russi sia contro i tedeschi fino a 56 tra l'altro fanno la resistenza ai russi tanto che Stalin manderà Zhukov a sterminare praticamente la resistenza ucraina quindi è una storia molto più complicata non è così lineare addirittura c'è un momento in cui gli ucraini fanno in volina le stragi dei polacchi polacchi e tedeschi mettono su una decina di battaglioni per sterminare le bande UPA questo per far capire che non si può ridurre semplicemente a entrare in tedeschi anche loro sono nazisti tra l'altro non ci sono notizie storiche di rapporti tra il nazionalsocialismo e gli ucraini precedenti all'ingresso dei tedeschi neanche un finanziamento ai partiti al nazionalismo ucraino o cose del genere la sua è una semplificazione ideologica apta a dare una certa linearità che nella realtà non esiste anche la dichiarazione che fa hanno aiutato a cassare milioni di ebrei cozza completamente con le stime di quanti ebrei vivessero in Ucraina in quel periodo un milione e due un milione e tre un milione e cinque un milione lui parla di milioni c'è sempre questa cosa di tirare a esagerare le cifre e vedremo che è una costante nella narrazione di Travaglio lo farà anche con il discorso del gran mufti di dire che è un grande amico di Hitler poi vedremo che così non è andato e quindi si può guardare semplicemente qualsiasi fonte su questa storia per capire che non è lineare né semplicistica come la racconta lui poi ovviamente mette sempre il disclaimer non serve a giustificare i russi ma allora perché la racconti perché racconti questo genere di linearità invece di dire che è un discorso complesso è lo stesso discorso degli ucraini hanno creato la guerra in Dobass è una semplificazione che come abbiamo dimostrato prima è assolutamente falsa visto che sono gli stessi russi che ci raccontano che non è andata assolutamente così poi ho messo tutte le fonti di questa storia in cui ho parlato con Paolo Nori con Aldo Giannubli mettendo decine e decine di libri chi vuole andare ad approfondire può andare direttamente lì questa non è una giustificazione per far capire che la storia è molto complicata non c'è una linearità così semplicistica è un grosso caveat di questa storia è il fatto che nel mondo sovietico agli ucraini ai polacchi non era permesso di studiare il loro nazionalismo per dire la Polonia fino al 1991 non poteva neanche parlare in tv della guerra russo-sovietico polacca e della vittoria davanti a Varsavia quindi molti ucraini sanno poco di Bandera e anche in Ucraina è un personaggio controverso il problema che hanno loro è che quello è l'unico nazionalista su cui possono diciamo appoggiarsi per diciamo festeggiare il loro la loro nazione ed è un personaggio controverso ovviamente fra l'altro lui con tutta la sua organizzazione diciamo eredita da Simon Petliura quindi stiamo parlando del 1917 la prima i primi nuclei nazionalisti ucraini che visto che spesso poi ci arriveremo perché io in futuro farò anche il debunk della famosa intervista di Carson a Putin dove Putin spesso dice che l'Ucraina non esiste allora mi devono spiegare perché nel 1917 c'era Makno c'era Petliura c'erano altre fazioni che hanno combattuto due guerre civili contro anzi di indipendenza contro i russi questo sempre per dire che gli ucraini vogliono essere russi ma mica tanto con due guerre di indipendenza e con un'occupazione che ha sterminato questi movimenti nazionalisti fino al 56 chiusa la parentesi Mirko questa è la tagli scusa te lo dico perché non so come dito altrimenti è ritornata su la puntata non so se la vuoi togliere quel pezzo lì o se vai avanti e andiamo avanti e andiamo a Azov ti sto parlando del battaglione Azov del battaglione Znipro e di altri nove battaglioni dichiaratamente neonazisti che esibiscono nelle loro bandiere le FOS stilizzate e che hanno tutti tatuati le svastite ti sto parlando ecco questo è sempre per far capire il fil rouge del modo che ha travaglio di raccontare questa storia lui la racconta sempre semplificando tutto in essenza ma guarda caso questa semplificazione avviene sempre e sistematicamente solo per un lato cioè quello anti-ucraino questo è un montaggio che ho fatto io che fa vedere sia la simbologia dell'Azov perché io non mi nascondo cioè chi dice che quello è un photoshop ma ce ne sono tantissime altre cioè andare a nascondere il fatto che alcuni membri dell'Azov addirittura andavano a fare il saluto su delle tombe di XSS insomma è un fatto risaputo qui un pochino sotto c'è Dimitri Utkin che è morto e passato a migliore vita insieme a Prigojin nel famoso diciamo tra virgolette incidente aereo gli altri sono invece esempi di comandanti e di simbologia chiaramente di ispirazione nazionalsocialista utilizzata dalla Wagner in Siria con anche delle scritte che vanno a riprendere cioè il famoso 88 e ricordatevi questo 88 cioè il 1488 perché poi molte formazioni nazionaliste di estrema destra russa usano l'88 nei loro nomi questo per far capire che quando si parla di estremismi di destra se uno veramente vuole fare questo gioco che secondo me è veramente un gioco allo schifo se andiamo a vedere il numero di formazioni di partiti politici di chiara ispirazione di estrema destra di una parte e dell'altra perché quando si raccontano infatti devi raccontare tutto perché solo uno non ha un metro di giudizio di comparazione perché si parla sempre solo di quelli ucraini e non si parla di quelli russi che poi hanno partecipato alla guerra del Donbass eccetera perché se andiamo a fare questa comparazione l'immagine che ne viene fuori e ti prego di mandare avanti le slide è questa queste sono le fazioni politiche russe nazionaliste di estrema destra gruppi paramilitari e battaglioni di chiara ispirazione e basta vedere la simbologia io non voglio neanche commentarla guardatela e li avete visti ad esempio uno dei capi dei russi c'era quello che diceva a Emenazzi senza nessun problema proprio dicendolo tranquillamente c'è la Wagner vogliamo fare questo gioco di quantità perfetto la Wagner aveva 50.000 uomini nel suo momento apicale quanto erano grandi battaglionetti Nipro Kraken Azov tutti insieme probabilmente non arrivavano a 10-12.000 messi insieme quindi se vogliamo fare questo gioco di andare a vedere chi ha più gente diciamo fusa di cervello di estrema destra beh mi dispiace dirlo ma i russi stravincono alla stragrande fa l'altro se andate a vedere le fonti troverete la Werewolf Legion la Schultz 88 vi ricordate l'88 che va a riprendere la famosa 14-88 White Society 88 ecco anche questi non sono proprio LGBT plus Lincoln 88 The Cleaners Rusich Wagner e tantissimi altri quindi abbiamo messi solo alcuni ne possiamo trovare altri tra l'altro a differenza degli ucraini visto che si parla di storia tantissime di queste formazioni russe sono degli anni 90 del 2000 cioè vanno avanti da 30-40 anni mentre del problema diciamo nazionalista ucraino se ne parla praticamente soltanto negli ultimi 20 anni ecco per dire questa è la comparazione questi invece sono partiti gruppi paranoitari battaglioni fazioni politiche ucraine ascrivibili all'estrema destra e a ispirazione diciamo nazionalsocialista o giù di lì beh la lista è questa sì c'è qualche altro piccolo gruppetto ma essenzialmente se dobbiamo fare una bilancia come si può vedere non c'è paragone quindi perché viene sempre solo raccontato un fatto e poi si dice sempre sì vabbè ma non è questo non è che voglio giustificare Putin però racconti sempre solo un lato perché il trucco di quando racconti le cose in questo modo è di raccontarle solo da un lato dicendo sì ma non giustifico però guarda caso non parli mai dell'altra parte quindi se la narrativa di Putin è sempre stata dobbiamo denazificare l'Ucraina mi spieghi perché nessuno parla di denazificazione russa se questo è il metro di giudizio e di paragone della situazione io questo la lascio agli spettatori che possono giudicare fare le loro ricerche su questi gruppi e vedere la bilancia del numero di formazioni da una parte dall'altra e dei numeri perché se uno va a vedere il numero di formazioni russe sono dieci volte superiori quindi io mi pongo questa questione perché si parla sempre di questa cosa unilateralmente se bisogna parlare di storie bisogna farlo con onestà e bisogna usare questo metodo di giudizio bisogna raccontare tutto non solo quello che porta acqua ad una parte sì tra l'altro specifico una cosa un secondo solo cioè queste qui sono in questa parte della slide sono tutte simboli sono patch di gruppi che combattevano in Donbass già nel 2014 tutti questi lo dico così e andrei avanti visto che il prossimo blocco è corposetto e i nazisti ucraini hanno avuto un ruolo fondamentale nel fomentare i disordini di Maidan che hanno dato il via al colpo di Stato che nel 2014 con la signora Nuland mandata dagli Stati Uniti apposta signora Nuland plenipotenziaria per l'Europa dell'Est di quattro amministrazioni americane le ultime quattro repubblicane democratiche tranne quella di Trump che è lì apposta per fomentare guerre e colpi di Stato mentre trovate su YouTube parlava con l'ambasciatore americano e gli diceva la lista dei ministri del governo che sarebbe nato in Ucraina dopo il presidente che gli ucraini avevano appena eletto regolarmente e che aveva il torto di non essere abbastanza filoamericano e non essere abbastanza antirusso e si chiamava Yanukovic l'ha lasciato con il colpo di Stato di piazza e gli disordati organizzati i battaglioni neonazisti che all'epoca fiancheggiavano le truppe regolari ucraine e che dopo sono stati integrati nelle truppe regolari ucraine allora qui ci sono moltissime cose da dire su questo dunque partiamo cerchiamo di scomporla un attimo cerchiamo di spiegare qual è il contesto in cui c'è la Nuland e il famoso telefonata della Nuland la telefonata viene intercettata nella prima settimana di febbraio non è ovviamente dato sapere esattamente quando probabilmente il 4 il 5 il 6 febbraio una cosa del genere del 2014 ci sono le proteste in piazza ci sono i morti in piazza in quel periodo il governo Azzaroff che è il governo del partito delle regioni lo stesso partito del presidente Yanukovic forza l'approvazione di un pacchetto di leggi che sono le cosiddette leggi antiproteste sono le leggi che fondamentalmente trasformano l'Ucraina in una dittatura dalla sera alla mattina queste leggi però provocano un'ondata di violenza perché danno la amnistia alla polizia per qualsiasi cosa voglia fare e creano un inizio dello sgretolamento in realtà del potere di Yanukovic perché 10 giorni dopo 9 di queste 12 leggi vengono cancellate dal Parlamento ucraino con 361 voti in una camera che ne ha 450 l'opposizione ha 200 voti nel Parlamento ucraino quindi almeno 160 deputati della maggioranza votano per cancellare queste leggi Hazarov si dimette la mattina del 26 gennaio perché il pomeriggio c'era un voto di sfiducia verso di lui e aveva ottime ragioni per pensare che l'avrebbe perso a questo punto Yanukovic offre il posto di primo ministro al capo del maggior partito di opposizione Iazzenio che il vice primo ministro al capo del secondo partito di opposizione Klitschko che oggi è il sindaco di Kiev e che erano i due diciamo leader della protesta in piazza che ovviamente aveva anche delle frange violente ma che era una protesta di massa che arriva a manifestazioni da ottocento un milione di persone in questo contesto appunto Yanukovic per cercare di pacificare di creare nel momento in cui non riesce più diciamo a soffocare la protesta quello che fa è cerca una pacificazione e offre questi posti ai capi dell'opposizione quindi quando Travaglio dice la Nuland nella telefonata dà la lista dei ministri in realtà Nuland con l'ambasciatore americano sta commentando il fatto che Yanukovic ha offerto questi posti a queste persone in quei giorni a Kiev ci sono molti diplomatici c'è molta attività diplomatica c'è Steinmeier il ministro degli esteri tedesco c'è Sikorsky il ministro degli esteri polacco c'è Loren Fabius il ministro degli esteri francese e c'è anche l'inviato speciale per l'Ucraina di Putin Lukin e sì c'è anche Victoria Nuland per gli Stati Uniti ma non c'è solo Victoria Nuland che sta facendo attività diplomatica che incontra gli Anukovic da caso viene raccontata solo lei ma essenzialmente c'erano tutti che cercavano di capire che diavolo stava succedendo poi a me non sta simpatica per niente detto personalmente fa che l'Europe solo può tenere per se stessa io ho un'opinione pessima della diplomazia americana specialmente in quel periodo lì quindi non è che stiamo difendendo Nuland qui stiamo però raccontando una situazione che è molto diversa da quella che descrive eh sì perché non è che c'è solo la Nuland che sta etero dirigendo tutto in realtà ci sono tutti i rappresentanti di tutti i paesi che hanno un interesse a capire che diavolo succede perché l'Ucraina non è proprio Liechtenstein in questo senso però guarda caso come semplice la semplificazione si prende si parla sempre solo della Nuland fra l'altro c'è un punto secondo me fondamentale cioè quello dove lui dice che lei detta la lista dei ministri ora noi abbiamo un'intercettazione completa della Nuland e questa parte non c'è per dire questa attività diplomatica in cui tutti incontrano tutti perché Nuland incontra Yanukovic incontra l'opposizione e così fanno ci sono i video delle riunioni con i rappresentanti dell'opposizione del governo da parte di tutte queste persone in quei giorni perché c'era una fitta attività diplomatica per evitare che la cosa sfociasse davvero in una guerra civile questa cosa sfocia il 21 febbraio del 2014 nella firma di un accordo in cui ci saranno elezioni anticipate ritorno alla costituzione c'è una serie di punti per pacificare la situazione nell'accordo c'è il fatto che si farà un governo di unità nazionale con a capo ci sarà le persone a cui Yanukovic ha offerto quel posto e questo accordo viene firmato da Yanukovic viene firmato dal ministro degli esteri appunto polacco tedesco francese dall'inviato russo e da tutti i leader dell'opposizione ed è il vero tentativo di trovare una composizione a questa cosa qui che Il tema è che Yanukovic ha offerto agli azienici il posto di primo ministro, a Klitsch col posto di vice primo ministro e hanno entrambi rifiutato, quindi hanno rifiutato una composizione perché la composizione che offriva Yanukovic è quella che poi sarà approvata, cioè quella dove lui rimane presidente fino alle elezioni, mentre la piazza chiedeva le dimissioni immediate di Yanukovic e quello che stanno facendo loro è dire, allora sono contento che hai parlato con Yatsenyuk perché probabilmente lo stanno cercando di spingere a accettare l'offerta di Yanukovic, l'elettrone complicato dice è Klitschko perché evidentemente su Klitschko non sono sicuri di riuscire a ottenere lo stesso risultato. Allora, qui che cosa succede? Che cosa ci dicono loro? Loro ci dicono che secondo me il problema è che il problema sarà con Tony Boak e i loro ragazzi, e cosa pensate? Allora, qui che cosa succede? Che cosa ci dicono loro? Loro ci dicono che secondo me loro la coesistenza al potere di Yatsenyuk e Klitschko può essere un problema, perché ovviamente sono rivali questi due e quindi rischiano di essere due galli in un pollaio. Quindi per far durare questo governo di unità nazionale, secondo loro è rischioso che Klitschko sia il sottoposto di Yanukovic. E il problema vero, secondo loro, è l'estrema destra, perché l'estrema destra, Tianbok, sboboda, è stata lasciata fuori da questo accordo. L'estrema destra è un problema perché ovviamente in piazza può continuare a dare fastidio, no? Io penso che sia stato il governo di unità nazionale e infine. E penso che Yatsenukovic sia l'esperienza economica e l'esperienza di governamento. L'altro che ha bisogno è Klitsch e Tony Boak, dell'interno dell'interno, bisogna parlare con in questo governo di unità nazionale ovviamente la Nuland come tutti i diplomatici in quel posto aveva un suo candidato che è quello però di Yanukovic è lo stesso a cui Yanukovic ha offerto il posto e pensa che ci debba essere uno stretto coordinamento tra questi partiti però tenendo uniti i moderati e tenendo la destra fuori dal governo la destra estrema Clich going in he's going to be at that level working for Yanukovic it's just not going to work I think that's right Do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call that you tell me was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a three plus one conversation or three plus two with you is that not how you understood it? No, I think I mean that's what he proposed but I think just knowing the dynamics that's been with them where Klitschko has been the top dog he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got and he's probably talking to his guys at this point so I think you reaching out directly to him helps with the personality management tra l'opposizione e diplomatici stranieri per capire come i rapporti di forza all'interno dei tre partiti di opposizione possono risolversi o diventare problematici nella formazione di questo governo di unità nazionale io trovo che sia un documento straordinario questo indipendentemente da come uno la pensa a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it okay, good I'm happy why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after okay, will do thanks okay, I've now written oh, one more wrinkle for you, Jeff yeah I can't remember if I told you this or if I only told Washington this that when I talked to Jeff Feltman this morning he had a new name for the UN guy Robert Serry did I write you that this morning? Nuland sta cercando di coinvolgere le Nazioni Unite quello che succederà è che le Nazioni Unite eleggono un rappresentante speciale per l'Ucraina nominano un rappresentante speciale per l'Ucraina che è il famoso diplomatico olandese Robert Serry che è stato per molto inviato speciale alle Nazioni Unite nel Medio Oriente e che verrà mandato in Crimea con pochissima fortuna questo è quello di cui sta parlando adesso Nuland he's now gotten both Serry and Ban Ki-moon to agree that Serry could come in Monday or Tuesday so that would be great I think to help glue this thing and have the UN help glue it and you know fuck the EU fuck the EU fuck the EU perché esattamente a questo punto della telefonata è difficile ancora capirlo ma la spiegazione arriva esattamente subito dopo del perché secondo Nuland in questa fase questa cosa deve funzionare funzionare rapidamente coinvolgere l'ONU e fuck the EU passaggio fondamentale questa cosa se prende quota i russi cercheranno di silurarla ma soprattutto la frase fondamentale secondo me sto cercando di capire perché Yanukovic l'ha fatto cioè loro stanno non stanno dettando poi sì possiamo ovviamente dire che per qualcuno può essere molto poco opportuno il fatto che un rappresentante diplomatico americano dica secondo me è quello giusto secondo me lui deve star fuori secondo me questa cosa non funzionerà la diplomazia poi in realtà funziona così per qualcuno può essere più opportuno che qualcuno può essere meno opportuno questo livello di ingerenza ma è molto diverso da quello che ci racconta Travaglio in quel minuto c'è una parte di region faccio e una parte di region di region parla di qui la parte interessante è terminata e quindi quello che abbiamo visto è dietro le quinte secondo me straordinario sulla diplomazia poi ripeto trattasi indubitabilmente di ingerenza come era ingerenza quella della Polonia della Francia della Russia della Germania erano tutti lì per ingerire però quello che vediamo è e bisogna sapere però si capisce che non è organizzato da loro perché se devono mettersi lì a mediare con quello con quello, questo forse è meglio non prenderlo perché sono quelli di estrema destra significa che gli ucraini stanno decidendo le cose e loro cercano di consigliarli per evitare e sperano che i russi non si infilino nel mezzo e facciano saltare tutta questa roba qui erano loro perché dovrebbero mettersi a parlamentare, a discutere se loro gli dicevano questo, metti questo, questo è questo questo è il governo e buonanotte che è come ce la racconta Travaglio ma come vediamo è molto diverso stiamo parlando di riunioni di gente che cerca di capire come la pensa quello, cosa farà quell'altro si parla anche chiaramente di volontà indipendenti come hai giustamente detto te dalle persone sì, è chiaro che non ne hanno il controllo se devi andare a mediare con il singolo e cercare di capire cosa vogliono fare con chi eccetera esatto quello che succede poi nei giorni successivi è che tutto quello che abbiamo visto scritto nell'accordo che viene firmato da tutte le parti in causa inizia a passare con delle maggioranze parlamentari che definirei impropriamente bulgari cioè il ritorno alla Costituzione nel 2004 passa con 386 voti su 450 compresi quelli del partito lo ridico per forza l'opposizione fino al fino al mese prima aveva 200 voti quindi questi 186 voti arrivano dalla maggioranza in più il ministro degli interni che in questa fase è considerato il responsabile politico dei morti in piazza e che viene mollato da tutti e che scapperà è tra quelli che scappa viene destituito con 332 voti quindi di nuovo almeno 120 i deputati dell'opposizione votano per questa cosa l'amnistia per i manifestanti arrestati che poi era il vero problema della piazza la piazza si scalda e la piazza degenera perché per gli arresti perché la cosa viene gestita in maniera sovietica con arresti di massa pestaggi di massa è lì che a un certo punto io qui non lo dico ma ci sono dei sondaggi in cui la gente è in piazza più per questo che per l'affiliazione all'Unione Europea e questa cosa passa con 372 voti di nuovo quindi almeno il partito del presidente ha votato sia il decadimento del presidente che la rimozione di tutto il resto questa è la fiducia al governo che nasce il governo di vita nazionale quello che esce dall'accordo che abbiamo visto prima il partito delle regioni che era il partito di maggioranza relativa a questo punto e poi vedremo perché è rimasto con solo 120 deputati di cui 94 votano a favore di questo governo l'unico partito che vota contro questo governo è il partito comunista che ha 32 deputati ma è un governo che passa con adesso non mi ricordo esattamente quanti sono ma quasi 300 deputati su 450 e è anche interessante vedere cosa succede al partito di Yanukovic perché il partito di Yanukovic che aveva a dicembre 2013 204 deputati quando la repressione inizia a far perdere legittimità al potere di Yanukovic della piazza inizia a sfaldarsi arriviamo al 21 febbraio che ha perso 30 deputati e vediamo come la quota degli indipendenti sale proporzionalmente arriviamo al 22 febbraio il giorno in cui Yanukovic lascia il paese che ne ha persi altri 40 in un giorno cioè è un fuggi-fuggi a luglio 2014 ne avrà 78 deputati e saranno nati altri due partiti di fuoriusciti più una quota di indipendenti che arriva quasi a 100 deputati quindi è un potere che collassa si vede in maniera geometrica qui tant'è vero che appunto quando il 22 febbraio Yanukovic scappa e qui abbiamo siccome viviamo in un'epoca straordinaria abbiamo il video di lui che scappa in elicottero perché poi noi che facciamo queste cose siamo anche fortunati perché in nessun'altra epoca avremmo roba del genere la gente in piazza non lo vuole l'accordo che è stato firmato quindi quando Travaglio dice i neonazisti che in realtà l'accordo che viene firmato non gli sta bene tant'è vero che Klitschko quando sale sul palco si deve scusare per aver stretto la mano a Yanukovic davanti alla piazza inferocita perché questo accordo è fatto fuori dall'estrema destra è fatto dai partiti più moderati che vanno a formare il governo di unità di unità nazionale a questo punto Yanukovic fugge viene destituito semplicemente perché non esiste in nessuna costituzione del mondo un modo per ehm se domani scappassi il presidente dell'Italia non è che abbiamo non c'è scritto la costituzione è decaduto de facto nel senso è andato in un altro paese fa l'altro noi abbiamo un'altra parte documentale secondo me è molto interessante pare che Yanukovic non è che sia partito di sua spontanea volontà ma sia stato prelevato e ce lo racconta lui lo vediamo eh quindi il parlamento cosa fa? fa l'unica cosa che in quel momento ritiene utile per eh diciamo avere un disperato bisogno di stabilità in questo momento no? l'Ucraina quindi che cosa fanno? elezioni anticipate e un presidente ad interim fino a elezioni anticipate chiamando elezioni anticipate destituiscono Yanukovic in perché è una cosa che il parlamento può fare il parlamento può può chiamare elezioni anticipate che si svolgeranno poi a maggio quindi poco dopo e noi abbiamo appunto anche il fatto che Yanukovic a luglio 2015 rilascia un'intervista alla BBC in cui dice una cosa interessantissima cioè dice io non so scappato le forze speciali russe sono venute mi hanno prelevato senza che nessuno me l'avesse chiesto prima perché Putin gli ha dato l'ordine e poi dice anche io ringrazio Putin perché probabilmente mi ha salvato la vita ovviamente questo è quello che Yanukovic ci dice dal suo esilio in Russia per cui noi non sappiamo se questo sia effettivamente vero o in che misura sia effettivamente vero ma è un dato interessante Putin poi lo conferma Putin lo conferma conferma di averlo prelevato chiaramente non sappiamo se con il suo consenso no però è interessante Yanukovic dica non me l'hanno neanche chiesto prima e in questo momento il suo partito mentre lui lascia il paese si sbriciola cioè le sezioni locali cominciano a sciogliersi nessuno vuole avere più politicamente a che fare con Yanukovic in questo momento il leader del capogruppo del suo partito in Parlamento nel tentativo di salvare il partito dal discredito che Yanukovic ha portato sul partito rilascia un video in cui dice il partito era ostaggio di questa persona ogni tentativo di farlo ragionare è stato vano la colpa dei morti è sua dice e questo è il capogruppo in Parlamento del suo partito dice il partito era ostaggio di una famiglia corrotta perché poi mentre succede questo si aprono anche gli schedari di Yanukovic con i documenti del fatto che se era rubato l'impossibile è proprio come la caduta di un dittatore sebbene si tratti di un presidente di un presidente eletto addirittura il presidente della Rada che è il fondatore del partito di Yanukovic siccome Yanukovic aveva detto che era scappato perché il suo convoglio di auto era stato oggetto di armi da fuoco fa un video dall'ospedale perché è ricoverato in ospedale dove dice non è vero non c'è nessuno che mi ha cioè il livello di scaricamento è che anche quando per una cosa secondaria di questo tipo tutti lo stanno scaricando Yanukovic e infatti lo scarica anche Putin Putin il 3 marzo 2014 fa una conferenza stampa in cui un giornalista gli chiede come vede il futuro politico di Yanukovic e lui dice beh non è che ci avessi pensato non ho analizzato ma non credo che abbia un futuro politico cioè Yanukovic di fatto è politicamente morto il Parlamento gli ha votato contro in massa il suo partito lo scarica e lo espellerà dopo poco lui e tutti quelli della sua cerchia ristretta che hanno approvato le leggi di protesta che hanno gestito la repressione in piazza perché hanno perso qualsiasi credibilità e legittimità ora è chiaro che non stiamo parlando del più pacifico dei passaggi di potere ci sono stati 100 morti in piazza c'era l'estrema destra in piazza non è vero non è che lo stiamo negando qui ma definire questo un colpo di stato fatto da Nuland è un livello di semplificazione per me molto poco utile per chi ascolta ci sono voti parlamentari c'è una dialettica c'è un accordo c'è un accordo che poi viene rispettato da tutti tranne che dal presidente che scappa insomma io penso ma anche fosse un colpo di stato ma ammettiamo che è un colpo di stato comunque tutto il casino che è nel Donbass non è stato generato dalla popolazione del Donbass come abbiamo fatto vedere prima quindi anche quelle due cose cioè collegarle visto che a massima erano qualche io ci fa un collegamento diretto però io siccome ci tengo le parole colpo di stato vuol dire una cosa precisa i parlamentari il colpo di stato è quello che ha fatto Gilkin entrando con i parlamentari pistola alla mano quello è un colpo di stato quello è un colpo di stato il parlamento che vota con maggioranza dell'85% per un mese una serie di leggi un governo un governo che sta in piedi sei mesi con quei voti e andiamo avanti allora io qui mi faccio un attimo se non ne avessi abbastanza vuole approfondire se non avete abbastanza perché questa live io credo la caricherò in tre parti perché sta diventando tre ore passa lui ne ha fatto addirittura un altro di video di approfondimento per chi vuole approfondire solo la questione colpo di stato rivoluzione sempre con le fonti e tutto il resto è una live in cui si parla di come si arriva ad Euromaidan cioè che è successo prima perché si arriva a questa crisi e si dettaglia ancora più di quanto abbiamo fatto oggi tutto il processo le violenze in piazza eccetera eccetera per chi la volesse vedere sul mio canale penso che sia personalmente il video più bello che ho fatto però insomma questo poi sta a chi e qui si arriva diciamo alle ultime battute per chi ci sta ancora seguendo con questa affermazione di travaglio il problema è che Putin nella prima settimana ha occupato quattro regioni più l'Ucraina più la Crimea che si era già preso e oggi continua a occupare quelle quattro regioni più la Crimea e intanto gli altri facevano controffensive dove noi leggevamo di trionfi ritirate russi no ma sul fatto che ci sia stata una narrazione particolare su questo non c'è dubbio tutte balle per un anno e mezzo hanno raccontato solo balle io ho la fortuna di avere il generale Mini che mi aveva detto fin dal primo giorno come sarebbe andata a finire purtroppo ha avuto ragione e qui se permetti il mio campo infatti te lo volevo dire vai tu che allora questo è sono proprio gli ultimi aggiornamenti sono di questo mese questa è la situazione attuale dello stato di occupazione degli oblast ucraini da parte dei russi tecnicamente se proprio vogliamo essere precisi e so che Travalli è un preciso quindi immagino che apprezzerà la mia puntigliosità in realtà neanche il Lugansk è completamente in mano russa è al 95% 97% le altre sono due intorno al uno intorno al 50% che è quello di Donetsk e gli altri come si può vedere sono intorno al 60% 56% 70% ma lo potete vedere plasticamente quindi tecnicamente quello che ha detto Travallio è falso i russi non controllano i quattro oblast anche se li hanno annessi ovviamente illegalmente e in più dice un'altra falsità che chiunque ha seguito questa guerra ci arriva in maniera istantanea non hanno invaso i quattro oblast e si sono tenuti i quattro oblast in realtà hanno invaso l'oblast di Odessa perché erano arrivati quasi alla centrale nucleare dopo Mykolaiv quello di Kherson quello di Zaporizia Crimea Donetsk Lugansk Kharkiv Kiev e la zona di Usumi che non mi ricordo se è un oblast anche quello quindi stiamo parlando di otto nove oblast e non controllano quattro oblast come all'inizio della guerra assolutamente no tutta la zona in giallo è la zona che hanno perso durante la ritirata e durante le controversive Ukraine che lui dice che sono fallite ci hanno raccontato solo balle e roba del genere si vede che Surovikin non la pensa come lui perché se io mi ricordo Surovikin ha fatto questo comunicato qui prima di tutto vabbè essenzialmente quello che Surovikin dice è che si ritireranno è la cosa comica siccome a me piace usare le fonti io ho messo il fatto quotidiano di Travaglio che dice Ucraina l'ordine di Mosca via le truppe da Kherson i dubbi di Kiev sono ritirati perché rappresenta una svolta per la guerra ma lui ha detto che era tutto un fallimento e che ci hanno raccontato sul Bogie quindi anche il suo giornale è autocritica lo prendiamo così in realtà le controoffensive ucraine a Kherson e a Kharkiv hanno portato visto che l'esercito russo in quel momento era al collasso perché scappavano il molato Kupian Schizium Liman tanto che tutto questo avviene più o meno intorno a metà settembre il 21 settembre se ricordo bene era il 25 i russi fanno la famosa mobilitazione di 300.000 uomini questo a dimostrare che i tactical battle group i 180 tactical battle group che avevano partecipato all'inizio della guerra non erano più in grado di mantenere la linea del fronte Travaglio dice che sono tutte balle ora io ho messo un articolo del suo giornale come esempio ma ce ne sono decine che parlavano di questa cosa qui al di là del fatto che Orsini si diceva che la controffensiva era fallita a priori ancora prima che succedesse fatto con una tempistica fantastica perché tre giorni dopo gli ucraini lo hanno smentito io quando racconto queste cose mi rifilisco sempre solo a quel periodo in quel periodo l'esercito russo era oggettivamente in difficoltà e oggettivamente hanno perso tutte queste zone quindi tecnicamente tutto quello che ha detto Travaglio in questa ospezione è falso né più né meno e sulla questione picco della mirandola dove si informa lui cioè Orsini abbiamo già mostrato la sua analisi di Budapest ma c'è un articolo famoso sul fatto quotidiano dove lui dice l'offensiva Ucraina è fallita è l'ora che l'Europa lo accetti la sua diagnosi è sempre la stessa che vada bene che vada male lui ha sempre solo una diagnosi per qualsiasi periodo dal mio punto di vista a dimostranza che lui ha una posizione ideologica perché tutti i dati che avevo io e feci una live anche abbastanza epocale per il mio canale che si chiama Fuga da Kherson anticipando il ritiro fra l'altro andatevi a leggere i commenti sotto perché sono veramente divertenti c'era gente che mi diceva ma te sei pazzo ma di che stai raccontando invece poi ebbe ragione io perché era ovvio che gli Heimars stavano disintegrando la logistica dei Russin in quel momento sempre per far vedere che io racconto le cose per come sono io dissi anche si belli gli Heimars ma consumano 10.000 munizioni che vengono prodotti in un anno in tre mesi non è qualcosa di sostenibile cioè vedi diciamo che vedete il successo ucraino ma vedi anche che poteva essere limitato a un certo periodo di tempo se tutto questo erano balle beh anche il suo giornale ha scritto balle ma mi sembra che dalle mappe le cose siano accadute quindi io non so su che pianeta viva e travaglio fra l'altro di là c'è un articolo dell'Istituto for War che fa vedere le fasi della guerra e c'è un netto ritiro russo rispetto al primo periodo rispetto al periodo delle offensive ucraine quelle in viola nel terzo riquadro quindi tutto quello che ha detto in quella cosa lì è fattualmente falsa cioè ci sono le mappe e c'è la storia a dimostrare tutto questo e chiunque lo può vedere dalle mappe sono sbagliati i numeri sono sbagliati i suoi assunti tutto errato e anche il suo giornale giustamente raccontava i fatti e a parte qualche intervento di qualcuno che negava anche l'evidenza anche il suo giornale poi a cose accadute raccontavano quello che stava veramente accadendo quindi passiamo al picco della mirandola a me colpisce come abbia detto esattamente la stessa la cosa che era per forza sbagliata cioè lui ha detto nelle prime settimane ha preso quei territori se avesse detto no? paradossalmente se avesse detto da dicembre dell'anno scorso no? cioè la poteva dire in tanti modi diversi invece ha proprio detto delle prime settimane e lì si è di fatto messo in una posizione in cui ha detto no è insostenibile perché in realtà nei primi sei mesi c'è tutta questa parte che gli ucraini va e andiamo avanti qui c'è diciamo una chiosa che io vorrei fare perché anche qui trovo curioso il modo di a noi europei un presidente isolazionista che non si impiccia in tutti i paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani avremo sicuramente meno guerre se ci fosse Trump non ci sarebbe la guerra in Ucraina questo è matematico allora io diciamo uno può anche pensare che siamo nel campo dell'opinione se mi dici per me è meglio Trump per l'Europa no? quello che a me colpisce è la definizione di Trump come presidente isolazionista una delle cifre in realtà del primo mandato di Trump è stato l'usare la politica estera come strumento per non far parlare della politica interna e nel farlo si è mosso moltissimo in Afghanistan è quello che c'è per esempio il record di bombe prima di ritirarsi e ha anche intervenuto sulla legislazione per permettere di lanciare più bombe perché ha tolto una legge che Obama aveva messo che obbligava l'esercito a dare il numero di vittime civili degli attacchi fatti con i droni per quanto riguarda il Medio Oriente Trump è stato iperattivo altro che isolazionista ha spostato l'ambasciata a Gerusalemme riconoscendola come capitale ha appoggiato il piano di Netanyahu di annettersi la valle del Giordano cosa che ha fatto imbestialire i palestinesi gli iraniani ha cancellato l'accordo sul nullare iraniano per una cosa che il New York Times all'epoca definisse un nothing burger cioè senza nessun motivo tanto è vero che anche l'Unione Europea disse ma scusate ma perché state cancellando l'accordo sul nullare iraniano se non c'è nessuna violazione da parte loro quindi è esattamente uno che è andato a raddrizzare le gambe ai cani l'espressione che a qualcuno le ha spanzate ricordiamoci l'uccisione di Soleimani esatto stavo venendo lì ricordiamoci che alla faccia dell'isolazionismo l'uccisione di Soleimani è un atto molto più pesante di quello che la maggior parte della gente è una cosa di cui probabilmente oggi stiamo pagando le conseguenze dell'uccisione di Soleimani per non parlare di quello che ha fatto in Nord Corea dove ha fatto una serie di attività di visite distante come dicono gli americani anche cioè di cose di apparenza per poi finire in un disastro diplomatico perché la Nord Corea ha detto che non vorrà mai più avere rapporti diplomatici con gli Stati Uniti perché niente è più ipocrita di una promessa vuota e perché sono stati presi in giro per due anni perché i giornali titolavano Trump ha ribaltato tre decenni strategie americane nei confronti della Corea del Nord e secondo molti osservatori ricordiamoci anche altre cose Trump in Europa diceva cose devastanti altro che isolazionista cioè le ricordiamo ancora oggi le cose che diceva in Europa però siamo nel campo delle opinioni ma onestamente tutte queste cose non vanno proprio dalla parte della visione di Travallo io su questo voglio essere un pochino più netto cioè secondo me la valutazione delle sue cose possiamo dire come opinione sul fatto che sia stato isolazionista in politica estera non lo possiamo dire non lo possiamo dire ha messo veramente ha avuto anche una crisi diplomatica col Canada dai nessuno mai nella storia ha avuto una crisi diplomatica o il Canada cioè ha veramente è andato a tappito dal Medio Oriente da un orrore famosi per i meme del Sorri che dicono sempre scusa è impossibile litigare con un canadese sì per dire secondo me siamo a vannare dire no è il leader dei palestinesi che decise di non fare lo Stato nei confini fissati dall'ONU ma di prendere tutto cacciando gli ebrei gli atti dannati alla sconfitta è il Mufti di Gerusalemme che è la più alta carica sunnita della città santa Ahmed Alussaini zio paterno di Arafat che era la nazista era uno dei migliori amici di Hitler arruolatore di SS musulmane era talmente antisemita che aveva concepito di avvelenare l'acquedotto di Tel Aviv per eliminare tutti gli ebrei che ci vivevano gli pare che i nazisti gli abbiano detto che stava esagerando gli hanno dato una calmata al Mufti questo era pensate in che mani erano questi poveretti se vai avanti ricordo che lui a un certo punto dice che il gran Mufti era un grande amico di Hitler ora io sono andato a rilegermi le cose ma me ne ero occupato anche una vecchia live con Lorenzo Carbone che è un medio orientalista si sono incontrati una volta sola una sola c'è tutta la trascrizione di quello che si sono detti questa cosa tra l'altro è una cosa abbastanza nota perché nel 2015 Netanyahu disse che praticamente fu il gran Mufti a dire a Hitler di sterminare i liberi loro si sono visti nel 41 se ricordo a novembre del 41 per dare un'idea e quello che si dicono io addirittura ho preso i giornali mostralo i giornali israeliani che sbeffeggiavano ci fu perfino alla fondazione della Shoah che sbeffeggiò Netanyahu su questa cosa che il gran Mufti aveva detto a Hitler cosa fare dei libri e come sterminare se voi andate e io vi ho messo il link c'è tutto il dibattito il gran Mufti in maniera molto larga parlava con Hitler dove diceva che loro sono in una lotta per la sopravvivenza contro la Russia che vuole buttare giù il giudaismo internazionale inglese russo eccetera e che si capiscono la lotta degli arabi che se un giorno arriveremo da quelle parti insomma vi daremo una mano ma essenzialmente finisce lì non c'è un aiuto vero e proprio poi è vero che ci furono due divisioni di SS musulmane e che si macchiarono di crimini ed erano dal lato ma che il gran Mufti abbia insegnato a Hitler a fare i campi di sterminio o che avesse lui l'idea di sterminare tutto questa è una cosa che è stata smontata dai giornali israeliani noi abbiamo messo Harezza abbiamo messo The Time of Israel e abbiamo messo la trascrizione originale dataci dai tedeschi della discussione voi andate lì leggetela ma soprattutto io vi chiedo sempre in questo gioco delle semplificazioni e delle esagerazioni come si fa a definire un grande amico di Hitler uno che si è incontrato con Hitler una volta e se andate a leggere quella trascrizione del loro dialogo alla fine è un dialogo dove il Mufti chiede Mario e Monti e Hitler gli dice senti vedremo insomma quando sarà il momento quando arriveremo in Iraq buonanotte al secchio mai qualcuno che ho visto una volta sola grande amico e questa è una cosa su cui Netanyahu fece una botta colossale venne aggredito praticamente da tutti quanti soprattutto gli israeliani poi per il resto lo dico con onestà per il resto delle questioni palestinesi israeliane io mi sono trovato abbastanza d'accordo su molti punti ha una visione molto più in linea con la realtà molto mediana rispetto agli errori di una parte anche molto più precisa molto più precisa assolutamente molto più c'è una c'è una cadenza in quello che dice di eventi precisi con date che ho verificato che ho verificato e sono giuste a differenza di tutto quello che ha raccontato sulla guerra in Ucraina che ha delle semplificazioni che abbiamo dimostrato sono completamente errate quindi è questo il paradosso cioè su una cosa sa essere molto preciso si vede che è molto erudito e sull'altra invece questo è un mio punto di vista sulla guerra in Ucraina lui le informazioni le prende da Ursini e da Mini e lo dice lui nel senso sono i suoi informatori su questa questione e mi sembrano insomma alquanto azzardate sì poi ovviamente infatti noi diciamo questo non perché ci interessi qualcosa del Mufti a Lusseini che era molto antisemita sì era molto antisemita però perché è un modo di raccontare le cose che non ci sembra e faccia un buon servizio agli ascoltatori si potrebbe anche parlare della centralità che lui dà alla figura di Aluseini nel dopoguerra che non c'è non era il capo non erano in mano però vabbè poi si aprono altri discorsi e niente beh io direi che è stato un parto perché tra l'attacco dei bot russi perché erano i bot russi youtube si è mossa mi hanno mandato la mail mi hanno subito sbloccato la live ma io non volevo aspettare un'ora due ore o chissà magari giorni quindi abbiamo continuato l'abbiamo registrato ovviamente ci sono dei punti morti che io taglierò questo è ovviamente un tentativo di censura perché di censura pensate perché dovremmo essere attaccati dai bot filo russi che hanno denunciato questa live come cyberbullismo e non mi ricordo cosa citazione o l'odio o roba del genere perché evidentemente quello che stiamo mostrando dà molto fastidio dà molto fastidio perché con le fonti e con la dimostrazione che dietro c'erano tutti i russi beh questa storia della guerra civile decade molto velocemente fra l'altro io ringrazio tantissimo Emiliano con cui collaborerò anche per il libro che scriveremo per il 2014 2022 come periodo perché lui sta facendo una ricerca secondo me fenomenale in questo senso e ci stiamo arricchendo a vicenda di cose per ricostituire questa vicenda è estremamente complicato perché è veramente tutta una vicenda di oligarchi di singoli tizi che vengono finanziati eccetera molto al di sotto di Putin manca un tassello fondamentale per me e perché Putin decide questa invasione quando prima invece la mano gli viene fermata nella live abbiamo citato la battaglia di Zebaitsev e di Ilobais che i russi entrano salvano i separatisti e se ne fuoriescono in parte secondo noi è dovuto al fatto che l'esercito russo dal punto di vista di Putin non era pronto e ricordiamo che stiamo parlando degli anni delle riforme di Grasimov e di Shoigo e in parte perché ci sono anche tutte le registrazioni dei separatisti o dei capi dei separatisti chiamiamoli separatisti ma in realtà sono tutti russi come abbiamo dimostrato di gente del Donbass non ce n'è nemmeno uno che tentano di forzare la mano c'è anche la storia del famoso abbattimento dell'aereo del Malaysian che era un sistema book e anche lì c'è tutto lavoro di analisi forense abbiamo messo i link al processo avvenuto in Olanda eccetera che dimostra una delle cose che abbiamo tagliato perché così è durata solo tre ore esatto però c'è che dimostra anche che quel sistema book è stato consegnato per richiesta di Gierkin lì stavolta c'è la telefonata dove c'è Gierkin dice il grande capo finalmente ha deciso di mandarci qualcosa e secondo me Gierkin o ha sbagliato e mirava qualche aereo militare ucraino perché era l'unico vantaggio che avevano gli ucraini e che avevano un'aeronautica contro i separatisti o ha veramente buttato giù un aereo civile per riportare la fiamma di questa situazione e vedere se scatenava qualcosa esattamente come ha scatenato la situazione infatti ci sono dei video poi magari faremo anche delle live aggiuntive dove praticamente arriva Gierkin con i suoi 200 separatisti a Severodonetsk e c'era gente del posto che dice ma voi chi diavolo siete? questi non sapevano nulla poi ovvio questi cominciano a sparare gli ucraini sparano indietro la gente comincia a credere alla storia degli ucraini che hanno cominciato a sparare addosso a tutti poi da lì le cose si perdono ovviamente dal mio punto di vista i peggiori di destra della Russia e dell'Ucraina poi si sono trovati tutti lì poi si possono fare anche degli approfondimenti sull'Azov e tutto il resto sulla precarietà dello stato ucraino e sulla gestione di queste unità che si sono praticamente accollate per questione ideologica lo scontro ideologico contro quelli di estrema destra e dall'altra parte chi ne paga il prezzo? l'Ucraina e la popolazione del Donbass onestamente che si è trovata in mezzo a un gioco di oligarchi e di diciamo uomini di seconda linea dello stesso entourage di Putin mi sembra che l'immagine che sta venendo fuori e che essenzialmente questa guerra non è stata neanche pianificata da Putin stesso ma che ci sia stato trascinato quasi a botte di violenza e di ingerenza di questo gruppo noi cercheremo di ricostruire sempre di più ve lo ricordo abbiamo compressato queste cose sono tre ore ne potremo parlare per venti ore di queste cose con decine e decine di video di intercettazioni di prove e di stessi video che hanno fatto i russi che raccontano tranquillamente quello che hanno fatto e a cosa hanno partecipato e non c'è un altro modo di raccontare questa cosa mi hanno chiesto spesso per esempio quando ho fatto il video di un'ora e quaranta ma fai dei video delle pillole video più corti il problema quando ci si affaccia a questo tema è che bisogna affrontare la complessità del mondo russo e per capire il mondo russo che è un mondo di una complessità il russo è un universo e se non ci entri dentro e non ne capisci le logiche che ci stanno dietro non capisci gli eventi che determina è impossibile farlo se non si scende a questo livello di dettaglio ed è è questo il lavoro alla fine che facciamo noi e che è una questione di metodo quella che poniamo in trasmissioni come questa come quelle che faccio io sul mio canale come quelle che fa Mirko come quelle che facciamo e faremo insieme è una questione di metodo quella che poniamo che si contrappone alla semplificazione che abbiamo visto stasera che non quello che noi riteniamo è che non è utile non è utile per il pubblico non serve non porta a nessun arricchimento purtroppo se ci si vuole affacciare a questi temi questo è il livello di complessità che si deve affrontare altrimenti non ci si capisce veramente niente e sebbene non andate a ricercare le fonti non avete il tempo come noi di andare a farvi sette pagine di fonti solo per fare un video di questo tipo quantomeno richiedetele a coloro che vi vogliono raccontare gli avvenimenti perché se le producono poi qualcuno come noi andrà a guardarle e farà quel lavoro di debunk per voi ma se uno parla e basta e fa opinionismo e racconta la sua dal suo punto di vista senza portare nemmeno una fonte noi non ci possiamo fare quasi niente di quella roba io personalmente quella roba non la tengo nemmeno in considerazione non vale il mio tempo perché se loro non si prendono il tempo di cercare di testimoniare la loro tesi perché io dovrei mettermi e debancarla ora Travaglio è un personaggio ovviamente importante quindi ritenevo di doverlo diciamo verificare perché ritengo che quello che ha raccontato secondo me causa un danno alla verità cioè parla e parla questa che lui racconta all'inizio secondo me viene smontato da tutto il resto che fa durante il video cioè lui dice all'inizio i giornalisti non devono darvi le loro opinioni devono semplicemente presentarvi i fatti e lasciarvi fare a voi le vostre opinioni beh lui nel resto del video fa il contrario della premessa che lo stesso si era dato almeno questo è il mio punto di vista noi vi abbiamo raccontato queste cose e facciamo quello che ha detto Travaglio che voleva fare cioè noi vi facciamo vedere queste cose vi diamo le fonti guardatele fatevi la vostra opinione ma ricordatevi sempre che noi le abbiamo fornite basiamo tutti questi ragionamenti su queste cose dall'altra parte invece non vi vengono mai fornite e chiedetevi come mai e io con questa chiudo ringrazio tantissimo Emiliano ringrazio tutti ci avete seguito in questa maratona nonostante tutti gli inciampi tra bot filorussi youtube e problemi di stream quindi dovrò tagliare